Buongiorno a tutti e come primo intervento abbiamo il nostro magnifico rettore della Fottificio Università La Terrenense, il professor Vincenzo Bonomo. Buongiorno a tutti e il mio è un saluto di benvenuto da parte dell'Università, un benvenuto non formale perché l'Università è stata, come dire, si è sentita onorata della richiesta di poter svolgere qui il congresso, ritenendo proprio che si tratta di ambito, argomento che rientra direttamente nella sua missione e in quella che può essere anche la sua attività. Quindi ringrazio gli organizzatori, ringrazio il Presidente Torlonia per questa scelta e per averci dato la possibilità anche di ospitare persone e non soltanto un evento. La cosa per noi è importante che siano persone e non un evento. Certo, dicevo attenzione, il tema dei dritti, permettetemi di andare immediatamente su un profilo concreto che certamente sarà oggetto di trattazione, ma il tema dei dritti per noi rimane un aspetto essenziale, soprattutto in una università come la nostra in cui l'attenzione alla persona, la sua dignità in ogni situazione e in ogni circostanza diventa non semplicemente oggetto di studio o di approfondimento della ricerca, ma anche di capacità di proporre qualcosa. E qui ci siamo sentiti direttamente coinvolti perché parliamo della persona, parliamo della persona con una identità e non con qualcosa, potremmo dire, di limitato. In realtà stiamo parlando di situazioni di persone con disabilità e la disabilità è un valore, non è un non valore, quindi non è una mancanza di considerazione o di elementi che possano non far considerare quelli che sono i dritti fondamentali di una persona. Dritti fondamentali che dobbiamo necessariamente interpretare, interpretare alla luce di situazioni che quotidianamente tendono ad ampliare le possibilità, tendono allo stesso tempo anche a individuare quali sono gli ostacoli. Credo che una delle questioni più importanti nel profilo dei dritti sia proprio quella di eliminare gli ostacoli e creare quella necessaria inclusione. A volte è un termine che utilizziamo senza capirne effettivamente il significato, perché l'inclusione non è anche qui un profilo formale legato ai dritti, l'inclusione è piuttosto una capacità di partecipare pienamente ai processi e di esserne non solo destinatari, superando così quel tradizionale concetto di assistenza. Questo è un po' un modo per poter riflettere, almeno da parte mia, a poter riflettere proprio su come il tema della signora di Williams e le persone che sono coinvolti in modo diretto e indiretto rispetto a questa problematica possono essere oggetto di un'attenzione diversa. Chiudo questo piccolo saluto, anzitutto augurandovi un buon lavoro, augurando che questo convegno possa portare anche dei frutti dal punto di vista dell'attuazione pratica e concreta. E mi permetto di citare una frase e un'espressione che Papa Francesco ha utilizzato poco tempo fa di fronte a situazioni che coinvolgono la disabilità. Papa Francesco dice che la disabilità in ogni sua forma è una sfida e rappresenta un'opportunità, un'opportunità per coesistere in una società che diventa una società inclusiva, in cui ci sia sostegno e condivisione. Sostegno, condivisione e inclusività credo che sono un po' le tematiche legate al convegno. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie 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 a tutti i Presidenti dell'Associazione, al Consiglio Direttivo dell'AISF, sempre presente nel quotidiano della vita dell'Associazione e a tutti voi qui presenti che avete scelto di prendere parte a queste giornate che prima di altro vogliono dischiudere nuove prospettive e fornire un orientamento nella ricerca di soluzioni efficaci. Ringrazio anche tutti coloro che non potendo essere presenti oggi sono virtualmente con noi. Il titolo del nostro convegno, il titolo dell'International Conference Williams Syndrome 2022, racchiude il fine e il contenuto del nostro incontro. Riprendo i lavori assembleari del convegno del 2018 svolto a Torino, dobbiamo crescere insieme. è necessario essere più di uno. È indispensabile costituire un gruppo, una famiglia. La stessa AISF, che da 27 anni cerca di cementificare intorno alla stessa profonda convinzione. Per affrontare il presente, e ancora di più, il domani è necessario fornire una corretta e quanto più possibile completa informazione sugli aspetti clinici, riabilitativi, educativi, sociali e legali relativi alla sindrome. Negli oltre vent'anni di esperienza, l'AISF ha raggiunto molti degli obiettivi inizialmente fissati, soprattutto per quanto concerne l'età pediatrica. Sappiamo bene, in questa sala, quanto le diagnosi precoce e le terapie sempre più mirate messe in campo siano riuscite a garantire percorsi scolastici, di vita e di integrazione, vicini a una buona autonomia. Insieme alla nostra associazione sono cresciti i nostri ragazzi e ora hanno bisogno di esigenze peculiari della nuova fase di vita che si trovano ad affrontare. Oltre alle problematiche relative alla diagnosi e alla presa in carico dei piccoli con sindrome Williams, gli interventi di queste due giornate sono stati pensati per far luce sugli aspetti che riguardano da vicino l'età adulta. L'ipertensione, i disturbi del comportamento alimentare, la costruzione di un percorso di inclusione e partecipazione, anche e soprattutto con lo scopo di una reale inclusione lavorativa con il disabile come reale risorsa umana. Le iniziative che hanno segnato negli anni la nostra attività sono state molteplici e spesso realizzate con il contributo e la vicinanza di realtà che sono cresciuti insieme a noi. Nonostante il forzato stop di questi anni dovuti alla pandemia del Covid-19, siamo riusciti a portare avanti alcuni nostri progetti, come Marinai con gli occhi a stella, e ringrazio sempre la Marina militare di rappresentata, il Fuse Camp che quest'anno si è svolto in Norvegia. Non posso non ricordare nuovamente una nostra conquista davvero importante, la pubblicazione da parte dell'Inps, delle linee guida sulla previsione di rivedibilità in caso di malattie rare. Questo grande passo in avanti verso la migliore qualità della vita per i nostri ragazzi e le loro famiglie è giunto dopo mesi di incontri e colloqui tra noi e per l'Istituto di Previdenza. Non voglio rubare assolutamente altro tempo ai lavori, dunque passo la parola all'ambasciatore d'Italia, a Kiev, Pierfrancesco Zazzo, nostro consigliere nazionale e delegato dell'AISV presso la Federazione Europea Williams Syndrome. Grazie. Buongiorno, presidente e partecipanti di questa conferenza internazionale. I'm currently, as Presidente Torloni underline, the Italian delegato FUSE and father of Isabella, who is now 18 years old. FUSE is the European Federation of Williams Syndrome, the official association of national organizations across Europe, which are involved in supporting people affected with the Williams Syndrome. The goal of FUSE is to spread the awareness of this genetic condition at European level to ensure an effective coordination between the national Williams Syndrome organizations in Europe. It wants to promote a sharing of experiences, best practices and know-how regarding the Williams Syndrome. wants to promote and stimulate the scientific research regarding Williams Syndrome at international level and to attract funds to better deal with this syndrome and to share relevant publications and guidance materials concerning the syndrome. We are therefore very grateful for this initiative of the Italian Association of Williams Syndrome and thankful particularly to President Torloni for having taken this initiative to organize this international conference on the Williams Syndrome with the participation of highly qualified researchers and experts from all over the world. and this conference will provide a unique opportunity to get updated insights on the latest scientific discoveries regarding the clinical, genetic and social aspects of Williams Syndrome. In the conference, this for us is very important. It will provide an important occasion to have an exchange of views and experiences on how the different European countries deal with the very important issue in how to promote a better social integration and inclusion in the labor market of adults with Williams Syndrome. It has been underline, yes, I am right now very much under pressure because I am currently the Italian ambassador in Ukraine. I will fly back to Kiev next Monday. As you know, Ukraine is the victim of a brutal unjustified aggression with a heavy toll for the civil population, maybe almost 100,000 people. Among the people who suffered most, let me mention the disabled people. In Ukraine, there are over 2 million people with disabilities. I have seen many of them. The level of health and social care for them is a very poor one. It was a poor one before the war. Now it's even worse. The luckiest of them, there have been Italian missionaries, for example, involved in Lviv, and we helped them to evacuate people with disabilities to neighboring countries, mainly to Poland. But unfortunately, many of them are still in Ukraine under the bombs. and you can imagine that this situation is a very terrible one. And for me, it's very difficult to understand because today I'm here dealing with disabilities. But keep in mind that this war is also a very expensive one. Just to give you an estimate, with the latest attack on the 10th of October, with the drones and missile attacks, there's been estimated that the Russians spent 800 million euros just one day for these missile attacks. It would be much better, I say something very obvious, it would be much better to devolve funds for the scientific research instead of buying weapons. Anyway, let me conclude and thanks again a lot President Portolonia for having organized this conference and I would like to express the best wishes for a successful conference. Grazie. Passo la parola al Professor Bruno Della Piccola. And now I hand over to Professor Bruno Della Piccola. Buongiorno a tutti. Io ho accolto con molto piacere l'invito che mi ha rivolto il Presidente Torlogna a riportare a tutti voi un saluto all'avvio di questa conferenza internazionale che cade all'incirca a 60 anni dalla scofferta della sindrome di William e a circa 30 anni dalla definizione delle sue basi biologiche. Vi riporto un saluto a tre livelli. A livello personale in quanto amico dell'associazione e membro del comitato scientifico ma ve lo riporto anche a nome dell'ospedale Bambi Gesù di cui sono direttore scientifico ospedale che da anni a fianco dell'associazione ha co-interventi di tipo medico e sociale. Un terzo saluto e lo rivolgo anche a titolo personale come medico e ricercatore per il lavoro che con il mio gruppo abbiamo fatto su questa condizione studiandone aspetti molecolari, genetici e aspetti clinici per lo sviluppo che abbiamo fatto di linee guida di tipo internazionale e la pubblicazione di alcune opere monografiche che sono servite se non altro a diffondere meglio la conoscenza di queste condizioni nel nostro Paese. Non c'è dubbio che stiamo vivendo un momento di particolare fermento attorno al tema delle malattie rare e ne è espressione un documento importante che ha varato il nostro Parlamento nello scorso mese di novembre il testo unico dedicato alle malattie rare che se vogliamo è la prima volta che in maniera ufficiale il nostro Paese, la nostra politica si fa ufficialmente carico di questo tema. Purtroppo questo documento dovrebbe essere integrato con interventi da parte di tre Ministeri della Conferenza Stata e Regioni di questo percorso dovrebbe essere concluso nel mese di maggio siamo in ritardo l'argomento è ancora aperto ci auguriamo che prossimamente la nuova classe politica che prenderà in mano il governo il nostro Paese ci dedichi con passione al tema delle malattie rare. Ma vorrei ricordare anche un altro importante intervento internazionale che è avvenuto nei miei scorsi la risoluzione dell'Odo sulle malattie rare il dicembre del scorso anno che è una presa in caso generico a tutto campo di questo tema con considerazioni di tipo diagnostico terapeutico ma soprattutto nell'ambito sociale. Un altro argomento che c'è di grande interesse attenzione intorno al tema della malattia di questi tempi è certamente il progresso scientifico che è stato trainato dalla rivoluzione genomica che ha permesso non solo di migliorare la diagnosi di molte di queste malattie che come sapete nello tanto per cento di casi sono malattie geneticamente determinate ma che ha permesso anche di entrare un po' nel merito dei meccanismi profondi della malattia e quindi di sviluppare terapie di precisione almeno in alcune condizioni. Anche a livello della sinistra di miglia sono stati fatti dei percorsi di progetti importanti uno l'ha già citato dal Presidente nella sua introduzione certamente abbiamo molto abbassato i tempi della diagnosi in questo Paese e sicuramente la disponibilità di reguida hanno fatto sì che la malattia oggi venga presa in carico per tempo a tutti i livelli per prevenire i possibili bersagli e le possibili complicazioni che possono intervenire nel corso della storia naturale di questa condizione. Certamente rimane molto lavoro da fare certamente guardiamo con la possibilità di sviluppo di terapia più mirata e sicuramente in questo convegno ci sono degli interventi che faranno vedere un po' di luce in fondo al tunnel ci faranno capire come per questi malati oggi si può cominciare a pensare di far fare qualcosa di più specifico. Non c'è dubbio che la ricerca è il volano di tutto l'avanzamento delle malattie erare è la grande e ciò che genera ottimismo per le famiglie perché le famiglie si appellano al progresso scientifico sperando che dal progresso scientifico vengano da risoluzioni a problemi che rimangono ancora aperti e vorrei dire che in questo senso ha fatto scuola un documento ormai storico dell'Europa scritto circa dieci anni fa in Europa come sapete la Federazione Europea delle Associazioni delle Famiglie con Malattie Erare e questo documento ha identificato alcuni aspetti fondamentali che identificano il perché bisogna investire in ricerca nelle malattie erare il primo argomento è un interattivo etico di giustizia sociale ed è semplicemente legato al principio dell'equità e è giusto che le malattie erare abbiano gli stessi benefici dal progresso scientifico e noi c'estendiamo che derivino anche per le malattie comune e il secondo argomento è un argomento di rischio economico che è molto chiaro che fare ricerca è un investimento e non un costo costa molto più non fare ricerca il terzo argomento è un argomento che ci racconta come il progresso di malattie erare sia anche un beneficio per le malattie comune quindi quando progress è made there are also benefits in campo sanitario quindi vorrei dire che in questo senso tutti noi possiamo in qualche maniera essere protagonisti del progresso attorno al tema delle malattie erare e lo dobbiamo fare con quello spirito che ci ha insegnato Papa Francesco in un discorso che ha fatto nel 2021 nell'occasione della 24esima giornata del malatto quando scriveva investire in salute e ricerca nella cura nell'assistenza alle persone malate è una priorità legata al principio che la salute è un bene comune e con queste parole concludo il mio breve intervento di saluto e auguro a tutti un'ottima sofferenza grazie ringrazio il professore della piccola adesso passerei la chiamerei il professore Giuseppe Merla and over to Professor Giuseppe Merla from the Federico Secondo University he will be chairing the morning session and part of the afternoon session as well welcome professor Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere tutti qui presenti, il mio saluto va anche a chi è collegato da remoto, allora, giusto due parole, sono sottoscritto, io sono Giuseppe Merla, è una relazione con la sindrome di Williams da circa vent'anni, studio la Williams appunto da mio rientro in Italia, fu il professor dalla piccola a volermi a San Giovanni Rotondo per studiare questa sindrome, quindi mi fa un immenso piacere rincontrarlo ancora una volta a parlare di sindrome di Williams. Allora, abbiamo una giornata abbastanza piena e quindi io inizierei subito con le presentazioni, giusto qualche comunicazione di servizio, ci saranno delle presentazioni in inglese e delle presentazioni in italiano, ma abbiamo il sistema di traduzione in italiano, per cui non vi dovete preoccupare, e chiederei appunto agli speaker, ne abbiamo già parlato di prendersi appunto il tempo a loro dedicato, lasciando però qualche minuto alla fine di ciascun intervento per un paio di domande e quindi io non perderei molto tempo ulteriore, chiamerei quindi la dottoressa Beth Kozel. So, dottoressa Kozel, please reach the stage. Dottoressa Kozel, proviene di un investigatore dell'Asker Clinical Research Scholar National Heart, Lung and Blood Institute of the National Institute of Health in Washington, e il suo talk sarà sulle, vogliamo tradurlo, sulle modificazioni, dell'imitazione a carico di geni nell'aspetto cardiovascolare associato alla sindrome di Williams. So, dottoressa Beth Kozel. Dottoressa Kozel, over to you. Dottoressa Kozel, over to you. Dottoressa Kozel, over to you. Hast Youice accomplishments, acquired da s'il-estrit Sizphora, And i gemacht it. So, can we do so in that, and have to화를 an 이다? Be very important for us to provide private private digital williams syndrome in st louis missouri also in america my work is on all aspects of williams syndrome but we primarily focus on cardiovascular disease can i have the slot next please sorry it keeps going off of among people with williams syndrome so we understand that some people with williams syndrome have very severe complications of the condition while other people are more mild however all of the gene changes that cause williams syndrome for most people are the same and so we want to understand what sort of second findings are responsible for those differences we started by studying the changes in dna sorry can you go back a slide please thank you some of the changes in in dna and individuals with with the condition that had sort of unusual features of the condition and when we looked we said around 95 percent of people have the same size 1.5 to 1.8 megabase deletion but there were about 5 percent of people who had changes in their dna that were bigger some of them extending to one end of the chromosome and some of them extending further to the other side can you go forward one please when the deletion size was larger and extends towards the middle of the chromosome we saw that individuals with this deletion had atypical features of williams syndrome including having small head size even smaller than is typical for people with williams syndrome they often have decreased speech and more frank autistic features some abnormalities on their neurologic exam which we call spasticity where the limbs are a bit more tight and one thing that we've seen more recently in multiple patients who have atypical deletions expand extending towards the the center mirror the middle of the molecule is a change with very severe reflux to the extent that we have had individuals have adhesions in their esophagus or barrett's esophagus which are extreme manifestations of the condition some of this may be attributable to the fact that most of the individuals who have these atypical deletions are nonverbal and are not as able to communicate their discomfort go forward one slide thank you in addition we have individuals who have deletions that extend to the the other end so towards the the tail end of the chromosome we see that individuals here also have more autistic features if the deletion is big enough it can also extend to the magi or magi2 gene and those individuals tend to have fairly severe seizures in infancy we can see different heart anomalies than we usually see in terms of svas and sometimes some genital abnormalities we believe that the genital abnormalities can be associated with deletion of the poor gene at this end so that's not in the typical deletion but on the outside which can have hormone differences some people who have changes in this gene that affect both copies of the gene have a condition called antley-bixler which does affect genital function in this case we see intermediate lab values between antley-bixler and what would be in the typical population and we think that that sort of those sort of intermediate values can contribute to some of the more mild genital differences that we see in this group next slide please however the bulk of my group is interested in not necessarily these sort of atypical findings but in variability that exists amongst most people who have williams syndrome so when you look at the cardiovascular disease in particular we see that supravalvar aortic stenosis which is the this sort of cardiovascular feature of narrowing of the aorta that is sort of pathognomonic for for williams syndrome happens in around 60 percent of people with the condition so 40 percent of the people don't have any stenosis at all while around 20 percent of individuals have severe stenosis that they require surgery in order to survive infancy hypertension is similar where not everybody gets it but we do see a large number of people who have it even in early childhood next slide please in this area we looked actually at the deletion itself so amongst the 95 percent of people who have a typical deletion there is still some variability in the break points for that condition and there are two genes in the circle here ncf1 and gtf2i ird2 that are sometimes deleted and sometimes not in people with williams syndrome and we found that the size of that deletion impacts some of these cardiovascular risks next slide please in an earlier paper that we did in 2014 we and others showed that there was that depending on the size of that deletion and whether ncf1 was deleted impacted the risk of hypertension in individuals in addition it affected the stiffness or the sort of stretchiness of blood vessels such that actually having a bigger deletion actually was protective so people who had a bigger deletion that removes ncf1 have less hypertension and less stiffness next slide we do in order to study the sort of molecular parts of this we actually study mice that have a gene change that affects in this case the elastin gene which derives the bulk of the cardiovascular consequences and what we found is that if we took out the aortas of these mice and looked at them under a microscope immediately you can see the sort of squiggly lines here up on the slide and those are the elastic fibers that are present in the in the blood vessel wall and in between those elastic fibers you can see some red areas and that is a stain that we use that shows evidence of oxidative stress so reactive oxygen species that are happening when we take that same vessel and culture it in a system so that there's no flow on the vessel wall for a period of time and then look we no longer see that increase in oxidative stress that happens and so we think that what happens in that case is that as your blood is coming out of your heart and through the tube which is the aorta it brushes up against the aortic wall and when it just goes in one direction that's fine but when it goes back and forth it creates what's called sort of oscillatory flow and that back and forth leads to the presence of these sort of oxidative stiffness markers can you click on the image for the in the middle there you can make the video go here you can see a high high rate echocardiogram and what i hope you can see is that in this case the blood just went forward you could sort of see a sphere in the or a set of white moving in the arch that goes in one direction on the next one if you want to hit the image on the right you can see the aortic arch is a different shape and you can see the blood moving forward and then there's a period of time where you can actually see it move backwards i think with the slide moving we can't see all of the pictures but there is that sort of oscillatory flow next slide please in that case what we see when we actually test these in mice is that we see that the elastin heterozygous mouse which is similar to william's syndrome when we give medications to those mice to cause their blood vessels to constrict the elastin heterozygous ones or the william's like ones actually constrict more however if we put both mutations in place both the elastin change and the ncf1 change that over constriction doesn't happen anymore next slide please and so what we think is happening is this in a regular blood vessel that is open blood flow goes through nicely you only have blood flow in one direction you don't get that oscillation you don't get ross production and you don't have hypertension but in the elastin heterozygous mouse and in people we think that the blood vessel is narrow and stiff and the blood goes through and because of the abnormal shape and flow you get a back and forth flow that leads to the oscillations which leads to ross production that ross production then signals forward to create hypertension but in people or mice that don't have that extra ncf1 that forward step from oscillatory flow through ross can't work because you don't get the ross signaling and so that suggests that we can potentially use therapies aimed at antioxidant type of work to be able to treat hypertension in people with williams syndrome next slide please in addition to this we wanted to look at features outside of the williams region that contribute to impacts of health in particular trying to look at things that impact the risk of svas as we said around 20 percent of people need surgery and then we have a group of people who have very little vascular disease but they all have the same basic deletion and so what i usually tell people is that when i've done a genetic test that has told you what a couple of genes are doing in the system you have 19 900 and some other odd number of genes that are each doing their own thing pro or con in terms of making disease severity occur next slide please we originally thought we might be able to be smart enough to sort of guess what those second hits might be and we did some initial testing looking at that and realized that what we were actually seeing was an impact of multiple different genes that you have williams syndrome plus a bunch of hundreds of little genes here that are making things a little bit worse and a little bit better and so we needed to understand sort of the combination of all of those effects next slide please and this is a depiction of that of how we have sort of this this sort of plus and minus of some variants some gene changes that make genes work a little bit harder or a little bit less hard and we need to understand the sort of combination of those effects next slide please and so in order to do that we most people that do these types of studies work with thousands and thousands of patients tens of thousands hundreds of thousands of patients as we're seeing out of the uk biobank and that's just something that's not easy to accomplish in a rare disease situation and so we needed to develop new technologies to be able to work this type of work in a rare disease situation and so what we did was take in this case starting with 100 people and then later 500 people and look at the different gene changes that they have and try to find through the genetics the ones that have the highest chance of being important in terms of modifying phenotype and we do that by using a particular scoring system that chain that looks at sort of the impact of a gene change and its likelihood for something to do something bad to a protein that it's that it encodes and we also looked for genes that we already knew were different between people who had severe the different severe outcomes so having surgical svas versus having no svas and there's a lot of sort of computational work that i'm not going to go into but ultimately it led us to be able to find gene changes in about four different categories that were associated with more severe outcomes so the top hit for what we saw was genes in the extracellular matrix or in connective tissue so vascular disease in williams syndrome is associated with changes in elastin and connective tissue and what we found is that if people had other gene changes elsewhere in their genome that also impacted connective tissue that sort of was enough to push you to sort of a more severe outcome interestingly we also found that there were genes changes in the immune system and lipid signaling that also were associated with differences in outcome next slide please we've recently repeated this work in a shared experiment across five with 500 individuals with williams syndrome from multiple different groups including people in this room that contributed to those studies and found replication of our earlier study next slide please and this allows us to be able to target new areas of research to understand severity of outcome for vascular disease and people with williams syndrome and so in this case we're doing some work in the laboratory with our animal models trying to look at the role of the immune system and inflammation as it relates to outcomes in terms of disease in this particular experiment we took a mouse model that has elastin insufficiency and gets stenosis similar to supra valve aortic stenosis and bred it to another mouse that does that has changes in terms of its immune system such that it doesn't make certain white blood cells and what we found is that those the cells are the mice that just have the williams change ultimately get stenosis and pass away but if you also don't have the immune system they actually pass away much earlier and so that allows us to start to be able to understand this sort of interaction between the cardiovascular system and the immune system and that's really powerful because we haven't yet figured out how to change the connective tissue piece but modifying the immune system might be something that we can target in terms of understanding vascular disease better next slide more recently and just to sort of touch on this we published a paper looking at a review or doing a review looking at how the elastin gene is made because some of the work that we are doing now is in trying to understand how the elastin gene is turned on such that we could have the potential to be able to to modify ourselves and we have been able to find a new region based on studying several patients who have atypical deletions that may tell us a little bit more about that on off switch for the elastin gene such that we may be able to with further research be able to to sort of flip that switch back on at a later time next slide please so in conclusion for this section i just wanted to say that our our work is primarily focused on variation in people with with williams syndrome and trying to understand how changes in genes either within the elastin the williams region or outside can impact health we think we've been able to identify changes within the region and outside the region that that impact outcomes and we're starting to target those in mouse and models to be able to understand and to sort of create medications that we can bring back into people one more slide please in a very last minute here i just wanted to talk about a paper that we had that was just accepted last week that i'm very excited about this is a study that we did looking at not genetics but at cardiovascular outcomes related to health one of the physicians or many of the physicians that take care of people with williams syndrome notice when we do vital signs in people with williams syndrome that heart rates are always up and so we always say oh you know they're at the doctor they're anxious about about having been here but when we study heart rate using monitors where we have people wear them for for our multiple days we see that that heart rate is always up so it's up during the day the heart rate is actually up during the night as well and doesn't have the normal sort of periodicity that we would expect and usual with people in the world next slide please when we look then at the heart rate variability so that's the sort of variability that we see when we're sitting and relaxing our heart should beat slowly when we're up and moving around our heart should be fast what we found is that people with williams syndrome have very little variability to their heart rate so if you think about the sort of two modes of the way our sort of physiology works we have fight or flight that's sort of i'm running from the lion type of disease and then you have rest and digest and what this shows slide shows on the left there is the sdnn which is the variability that you see beat to beat is that that variability is decreased and then in the two graphs in the middle and on the right you see the gray bars and then the red on the right that show the what we call parasympathetic tones so that is the sort of rest and digest mode and what we see is that in general people with williams syndrome live their lives in fight or flight mode all the time during the day during the night and have almost no of the sort of rest and digest mode next slide please that difference in what we call autonomic dysfunction is associated with many of the health problems that we see are sort of most impactful for life certainly out of the childhood period but going forward so increased anxiety executive processing differences abdominal pain sleep are all influenced by autonomic response and we think that by sort of knowing what potentially is sort of the cause of that in terms of autonomic disturbance if we can think about putting therapies into that area sort of targeting that that we may be able to have impact on sort of multiple health concerns going forward so we're really excited about this finding because we think it allows us to sort of put treatments or at least target treatments to the cause of the problem as of course of sort of treating the symptoms down the line and with that i'd like to conclude so last slide three is just to thank the many people on my team um and around the world that we're involved in the studies that we do and to thank you for your support thank you thank you uh back for this exciting uh presentation uh question from the audience from from people that are connected by remote uh okay if not have just one uh or two baby the first one is about uh if you are um in your study checked for the epigenetics change on the whole genome gene specific i don't know that's the first the second one is um when you have um replicated your studies about uh you know the modifier genes uh which are the you know the major pathway that is uh found and which is your your favorite pathway slash genes want to investigate on thank you sure so in terms of epigenetics so epigenetics are sort of a coding that is put on dna that influences our genes sorry epigenetics are a coding that are put on dna that influences when genes are on or off um it has been found that in william syndrome in general there is a sort of an epigenetic um marker that you can distinguish by dna and this epigenetic signal people who have william syndrome from from not um we have done mostly our work on sort of the dna side but we actually just in the last few weeks just sent our first genomes to look at sort of the epigenetics we just hired a postdoc who's going to be sort of focusing in that area there are some folks from canada however that have spent some time looking in this area and there is work going on there there's also some data in mice that suggests that even the elastin gene alone when you change it affects epigenetics so i think it's a big area that we're going to be be finding a lot about soon in terms of which genes i think are sort of most impactful for impacting health related to cardiovascular certainly i think that the the extra ones affecting the the connective tissue make a lot of sense i mean once you've sort of hit the connective tissue once if you sort of beat it up again in terms of other gene changes that that's likely to be to have effects however right now so the elastin gene that you make that that causes the vascular disease in william syndrome you only put down for a short period in time so when you're developing it gets deposited in your aorta for the first few years and then it has a half life for 74 years so the ability to change what's been done after it's been done is really hard in terms of that and so i'm interested in targeting these other pathways like the immune system like the g protein signaling pathways because those are pathways that we know we can influence in real time throughout a person's life and i think that those are likely to be much more targetable as it relates to therapeutics now this work that we're doing right now where we've sort of identified a region that may be the on off switch that i'm really excited about because i think that's going to be game changing for this for this condition as well as just sort of aging of blood vessels and fixing all of our wrinkles and things going going forward thank you so question from the audience the question is about if your um and your court if you had some of hypertension and patients with pulmonary hypertension if in this case we uh you know the last chance was to into the transplantation of the rank so you're saying in pulmonary hypertension um what are potential treatments yes in the group that we have seen have we seen um transplant for pulmonary hypertension is that what you're saying i have seen that occur in a case or two in the u.s um for the most part we try to treat by sort of surgical intervention going deep um within to the vessels there are a few surgeons who can do that and then there are a couple of medical therapies um that we're also considering as well okay sorry what no oh okay no okay Sì, ho capito la domanda, il punto è che possiamo andare avanti, magari la chiediamo in separata sede, perché se no uno di noi ha il caso personale, ha capito proprio questo motivo, e poi lo chiediamo insieme alla fine della comunicazione, se no ci muoviamo. Ok, quindi possiamo andare al prossimo parlamento. Il prossimo parlamento è il professor Boaz Barak, viene dalla scuola di neuroscienze e della scuola di scienze psicologiche, Tel Aviv. Ok, Tel Aviv, Israele, grazie per arrivare. Il suo parlamento è sui nuovi incitamenti neurobiologici, nella nostra comprensione della syndrome Williams. Sì, grazie a tutti, per l'organizzazione e per organizzare questa buona parla. Sì, grazie per il nostro lavoro, è super importante per noi, per il nostro paese, per noi, per le persone, per le persone, e per le persone, e per le altre ricerche, perché è fondamentale per essere collegate, soprattutto oggi. Come le persone diciamo, non c'è più di base di riscogliosi, senza fondamentale, non c'è più di risposta, per questo, quindi è piaciuto essere qui. So, my lab in Tel Aviv University is focused on Williams Syndrome. We discovered a big finding on myelination deficits, and I would like to explain to you what are our basic findings and how we translate it into clinical trials. So, as we know, the prevalence of Williams Syndrome is about to 1 to 10,000 successful births, and while this is caused by a deletion of 25 genes, that's, we know, it leads to brain function deficits, but we don't necessarily understand why does it happen in the brain. I'm not sure this works well. Okay, now it works. Okay, yeah, great. So, because we don't know what exactly happens in the brain, we cannot really treat, we don't understand fully the mechanism, why these disorders lead to behavioral deficits, to motor dysfunction, to social behavior abnormalities. So, if we don't know why is it, we cannot understand how to treat it. So, I want to tell you the end of my talk. I'm going to show you findings about our myelination deficits findings in Williams Syndrome. And what is it, myelination? What is it, white matter? In the brain, we have connectivity between brain regions through bundles of fibers that connect the different subregions of the brain. This kind of connectivity is based on nerves, and they have filaments, we call them axons, and they are wrapped up by myelin. This myelin is critical for the axonal connectivity to be able to transfer the information from one side to the other in the brain, and it is produced by oligodendrocytes. Those are the round cells that you see that produce the myelin, that wrap this axon, and this is critical for the brain activity. Just like we know that in the Internet, the global Internet map that we see here, there is a connection between different pieces in the world. You see here in colors the amount of data produced by countries. For example, the USA in pink, the Italy in blue, and you see that there is a lot of information connected between the world by cables, Internet cables in this case. And if the cables are not properly functioning, then the communication will be affected. And that's exactly the case as in our human brain. We have these connections that you see on the screen. These are as if cables that need to be properly produced. And if we have damage in those cables, we don't have proper communication between brain regions. And this is critical, and this is what we try to understand nowadays. So, together with Beth here and other great researchers, we wrote a review and we discussed the genetic condition. And as we all know in the room, the genetic condition is due to lack of about 25, 27 genes on chromosome 7. And many genes were found to be related to the different pathologies, as Beth showed with the L-Styne, for example, on the cardiovascular aspect. But one gene, GTF2I, is the gene that we know from before that is related to the hypersociability that we are familiar with in Williams syndrome. But we wanted to understand why is it that GTF2I is so critical for modulating social behavior. And to do that, we did a basic research on mouse model for Williams syndrome, in which we knocked out, we deleted the gene GTF2I, in neurons in the brain. This allowed us to study the role of GTF2I in neurons in the brain. And what we have found is that this mouse model is good enough to model what we know that is critical in the pathology of Williams syndrome, hypersociability, and others, as I'll show you now. So, if we measure sociability in mice, and we put two mice in an arena, we see that when we measure the time they interact with each other, our mouse model, which don't express GTF2I in neurons in the brain, show increased levels of social behavior. This was found in dyadic social interaction, but also in this test of three-chamber social interaction test, in which we measure the time a mouse prefers to spend with a mouse over an object. And as you can see here, these mice prefer to spend significantly more time in interaction with a mouse over an object, showing increased social behavior. Now, this is also the case when we measure social aggression, which is lower in our mouse model, and we have found increased anxiety as measured by open field exploration test and elevated zero maze, two tests that show higher anxiety in those mouse model. What he tells us is that this mouse is good enough to study in order to understand why is it that these behaviors related to Williams syndrome occur when we knock out GTF2I. Now, in addition to the social behavior and other behavior deficits we found, we also found that the brain is not properly developed in those mice, and the cells themselves, the neurons themselves, are not properly developed as should. But we wanted to understand why is it. And in order to do that, we extracted all the expression of the genes in the mouse brain and sequenced them in order to see which genes are not properly expressed. This allows us to see what happens in the brain on the molecular level. And what we found is a list of a lot of genes that are not properly expressed. Their mRNAs are not properly expressed. And when we look at the list of those genes, we see here in yellow many genes that are actually related to what we call myelination. 70% of the genes that were down-regulated in their expression in the mouse brain, the mouse model for Williams syndrome, were related to myelination. And why are we so excited about that? Myelination, as we said, is critical for this transfer of information along the neuron. The brown layer that you see here improves the conductivity. It allows the electrical signal that you see here in blue to run faster and more efficient along the axon. And when you don't have proper myelination, that will affect your brain activity. And as we dive here in the mouse brain, we see here a lot of neurons connected with a lot of fibers. And these are covered by myelin. And as you see, you see now the connection between the two hemispheres, the two sides of the brain. And when you don't have proper myelination, as we found, this whole connectivity will be affected and will affect the brain function. So this myelin layer that you see wrapping the axon is produced by oligodendrocytes. And we can say that this is just like an electrical cable. You see here the axon in blue, wrapped by myelin, produced by oligodendrocytes. And what we found is that it's similar to the fact that you don't have proper isolation on electrical cable. But we wanted to understand why is it that this is the case and that we have myelination deficits. And to do so, we studied the neurons and the oligodendrocytes, those cells that produce the myelin. And when we quantified the number of oligodendrocytes in the mouse brain, we found that the deletion of GTF-ly led to a reduced number of those cells that are critical to produce the myelin. The fact that we have less cells that can produce myelin affected the thickness of myelin, the structure of myelin, which is critical for the function. And we see that the percentage of axons that are myelinated in the mouse brain is lower when you have GTF-ly deleted from neurons. And the thickness of the myelin itself is thinner. As you can see on the narrow image, you see that the myelin thickness is affected. So if we know that genes related to myelin are affected, cells that produce myelin are affected, and the structure of myelin is affected, we wanted to test whether this is also related to functional aspects. So we measured the electrical activity in the mouse brain by measuring the time it takes for an electrical signal to run through the bundles of myelinated fibers. And we found that indeed the malignation deficits lead to abnormal electrical activity and less information is transferred and it takes longer time for the information to get to the other side of the brain. Now there are motor skills, motor functions that we have that are dependent on this finding of axons that are properly myelinated. From the cortex to the spinal cord, we have axons with a lot of myelin. And if you have myelination deficits, you might have fine motor skills and gross motor skills deficits. So we assessed that in a mouse, and we found that indeed the myelination deficits we found lead to higher error rate on tests related to motor skills. And in addition to that, the gross motor skills, the strength of muscles is also affected by myelinated axons. And when we measured that, we found reduced grip strength in forelimbs and highlimbs of mice, which are mouse model for William syndrome. So all of that suggests that GTFTI in the neurons is critical for the development of myelination. And that's summarized here in a nice news and views made by John Chen. But the question is whether we can treat this kind of myelination deficits, first in mice. And what we want to do is we want to take those green cells that you see here, oligodendrocyte precursor cells, cells that we can push and make them become myelinating oligodendrocytes. Because if we will do that, we will increase the production of myelin, which is what we want in Williams syndrome. And indeed, there is an FDA-approved drug. This is super important, especially for this audience. This is an FDA-approved drug shown to promote the differentiation of oligodendrocyte precursor cells into myelinating oligodendrocytes. So we tested Clemestine for two weeks on mouse models, and we found that the number of myelinating oligodendrocytes is now normalized in two different brain regions, meaning that we were able to rescue the production of those cells. This led to normal thickness of the myelin, finally, and the normalization of the myelination properties led to normal social behavior. Now these treated mouse models for Williams syndrome are not showing hypersociability, but they show normal levels of social behavior. But you didn't come to hear about mice, and we are all here in order to help the families, the patients. And we did similar studies on human samples. And in human samples, what we found is that when we take the frontal cortex of individuals with Williams syndrome, we could see that also in human patients, in a post-mortem tissue, we found reduced thickness of myelin, reduced number of myelinating cells, those cells that produce the myelin, just like we saw in the mouse model, and abnormal expression of genes related to myelin. This means that the findings from the mice are relevant to humans. And this is why we are now focused on humans in a clinical trial we run nowadays. So what we want to do, we know that the number of oligodendrocyte precursor cells, those cells that can be differentiated into myelinating oligodendrocyte, their number is normal in humans. And we know that the number of myelinating oligodendrocyte is lower. So what we try now to do is to push the differentiation by giving clemestine in order to improve brain activity. So nowadays we run a clinical trial, giving clemestine in Sheba Medical Center in Israel, in collaboration with Professor Dolan Gotthelf, who is a physician who is studying and treating Williams syndrome. and we will give clemestine for about three to six months and follow up and see improvement in physiological and neurocognitive aspects, giving clemestine fumarate in the same dosage as was found to be safe in kids and adults for the administration that was given until nowadays. And this is in a group of researchers and clinicians that are focused on the cardiovascular aspects, movement disorders, and cognitive aspects. And indeed we validated in our clinic, we found that one patient that we measured indeed show motor skills deficits on a gait right, which is a special carpet that when you walk on it, you can see motor deficits, which are known to be affected by myelination also. And we found that this kid indeed have deficits when we measured it. Hopefully we will be able to improve motor and cognitive aspects, given the clemestine in a clinical trial. So in the last two minutes, I would just like to add more information on just three main studies that we do in the lab. We have more studies that we do, but due to time limitation, I want to show you information about a topic that was raised here before, epigenetics. So we did epigenetic studies on human tissue samples, the same samples that we described for the myelination deficits. And interestingly, what we see is that there are a lot of epigenetic modifications that can explain the pathology. So epigenetics, as Beth also explained, are modifications that you can do on the DNA in order to silence genes. So in order to study that, we hypothesized that probably epigenetic modifications are happening because of the deletion of the chromosomal region in Williams syndrome. And we took again the frontal cortex samples from post-mortem tissue and we did methylation study in order to see which genes are silenced in humans in Williams syndrome. And we found hundreds of genes that are silenced. And when we looked at the biological meaning of it, we see pathways related to forebrain development, and facial morphology, vascular issues, and others. And biologically, it means that we can understand better why some of the biological processes are inhibited in Williams syndrome. In addition to this epigenetic study on humans, we have a lot of studies on Williams syndrome mouse model in the lab, including those that related to white matter deficits that we established and defined in a publication recently published. We also study the effect of GTFY in myelinating oligodendrocyte. We study microglia in Williams syndrome, which is, these are cells related to the immune system, and we see higher activation in the brain of Williams syndrome. And we see severe effect on the mitochondria, which is the energy source of the cells in Williams syndrome, in mouse models, but also in human patient samples that we characterized. So, to summarize, I showed you basic research evidence from mouse model for Williams syndrome, but also how it is translated into human studies and clinical trials. And with that, I would like to thank again the organizers and my lab members and the funding agencies, which are becoming less and less prevalent nowadays with their focus on COVID-19 basic research. And I would like to give you the contact information if someone is interested in being in touch with us, we will be happy. And I would like to show you this great picture. This is a picture I took on a very late hour of an axon and the myelin around it. This is not Photoshop. This is from the cortex of a human patient. And what you see here in this post-mortem tissue is that the myelin wraps an axon, but it looks like a human face, actually. You see the nose, eye, and mouth. And this is coming from a post-mortem tissue of someone who had Williams syndrome. So we can see that also in their brains, they think about humans and sociability. So with that, I would like to conclude and gratia mille to everyone. Thank you, thank you, Dr. Barak, Professor Barak. Very, very, very amazing presentation. A lot of data, fantastic data. I don't know if there are some questions. Question from... Ah, okay, Angelo. First of all, thank you very much for your presentation. I have a couple of questions. First is, we have learned that one copy of the gene that causes this hypersocial behavior. Do you think that variability in the genomic sequence or the remaining copy could be responsible for the variability of the social behavior in Williams patient? And the second question is related to the age in which you want to start with the trial, the age of the patient, because I think that it could be very important in order to prevent the myelin damage and to prevent the development of the hypersocial behavior. Great questions related to the first question. In the mouse model that I presented, we knocked out, we deleted the two copies of the GTF2i, because this is a great way to show when you don't have any of the gene at all. The criticism about that is that it doesn't directly mimic what happens on the human condition, and this is why we validated our findings from post-mortem tissue in order to see modernization deficits in human tissue. So, you can refer to the study I showed you as a more focus on GTF2i, and specifically on its role on hypersociability, specifically in Williams syndrome. We did the same study, and we did also a myelination study on GTF2i heterozygous mice, meaning one copy out of the two, and we found the same effect. We have hypersociability, and we have myelination deficits, but in order to fully study it, we knocked out both of them. Lucy Osborne and many others are doing such similar studies, and we know that when you have half or no GTF2i, it will affect the spectrum of the hypersociability, no doubt, and we also see it in patients. We see a different level of hypersociability. As for the second question, specifically, and in this study in Israel, we are going to study from the age of six years and above. This is because of the safety regulation, and in order to get the approval, and so on. I fully agree with you, and you know much better than me, that if we will start treating as early as possible, it will be much better, because myelination occur in the human mainly after birth, and mainly in the first 17 years or so. The peaks later are much less dramatic. So as early as we can and start giving clima sign to patients, that will be safer, but we want to start first with the school age and above. So we're going to focus on 6 to 40. A short question. Is there any adverse reaction reported in the long-term treatment with Clementine? So, dizziness, not dizziness, sleepiness, being more sleepy, that's one of the outcome, the associated outcome that can be related to clima sign, but that's not common. That's something that you see on the brochure, but it's not something that we know that happens. We have people that take clima sign around the world, and they report to us not as part of this clinical trial, and there is no severe outcome that we are not happy with the effect. Yeah. Just now two questions. First of all, can you tell me exactly what is this clima sign? Just, I'm not a physician. And secondly, if there are other drugs which can improve the myelination deficit. Thank you. Great question. So, the first question was, what is clima sign? Clima sign actually is an antihistamine. It's something that you can take over the counter because it's FDA approved. It was focused on being as antihistamine, but Professor Jonah Chen from UCSF discovered by mistake that it also improves the differentiation of oligodendrocyte precursor cells into myelinating oligodendrocytes. So, we know that this can improve myelination condition also in humans. This is a drug given to multiple sclerosis, which is another condition with white matter deficits. So, this is why it's super important, especially for this audience, that this is an FDA approved drug known to be efficient in improving myelination and to be safe. So, it's an antihistamine. It blocks H1 receptor. I don't think it will be of interest for the audience. But there are also other drugs that people try to develop in order to improve myelination. Some of them were shown to be effective, some not. we're now focused on clandestine because it's cheap, it's FDA approved. If it will be efficient, hopefully everybody will be able to take it fast and not with a high price that the companies will take. This is a simple drug. Yeah. I have a short question for you. Thank you. First of all, thanks for the great lecture. And besides the age, you said, so you enrolled in this trial children up 6 to 40, right? So, besides the age, which are the inclusion and exclusion criteria to enroll people with syndrome? So, the inclusion and exclusion criteria are medical issues like cardiovascular issues which are very severe. These will not be included. Drugs that are interacting with each other which we are not familiar with. So, the main exclusion criteria would be cardiovascular issues but not something else. If there is an epilepsy or something like that, of course, it will be also excluded but the main cardiovascular issues. Ok, thanks. Thanks a lot. Allora. Ok. Il prossimo speaker è Paolo Alfieri, dottor Paolo Alfieri della Università dell'Unità di Neuropsichiatria del Bambin Gesù il quale ci parlerà dei profili socio-adattivi nella sindrome di Williams. Abbiamo accumulato un po' di ritardo per cui chiedo all'amico Paolo di stare nei tempi quantomeno. Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ringrazio per l'invito agli organizzatori e porto i saluti anche il professor Vito e anche il servizio della psichiatria del Bambin Gesù purtroppo per i pegni istituzionali oggi è stato... Mi siedo, guardate così. È meglio? Oh, ok. Allora, io oggi insomma vi parlerò un pochino dell'aspetto socio-adattivo che appunto sembra appunto maggior ragione dopo questa interessantissima presentazione che abbiamo ascoltato sembra uno dei possibili aspetti delle autonomie su cui diciamo possiamo in qualche modo intervenire proprio per migliorare la qualità della vita di queste persone come la signora di Williams. Negli ultimi decenni si è sviluppato molto un concetto che è abbastanza condiviso a livello di letteratura scientifica che è quello del fenotipo cognitivo comportamentale ed effettivamente c'è una corrispondenza spesso tra le caratteristiche fisiche e i comportamenti con un determinato genotipo. Quindi ovviamente nell'ambito delle sindrome genetiche in particolare insomma tra le più studiate appunto la sindrome di Williams e la sindrome di Down negli ultimi decenni sono state sono state apprese diverse caratteristiche peculiari che fanno parte proprio del profilo neurocomportamentale e che ovviamente variano da individuo in individuo ma sono generalmente correlati diciamo a una cosiddetta correlazione neuroanatomica. Ovviamente abbiamo visto che lo sviluppo di competenze emotive e cognitive dipende ovviamente dalla differenza da sindrome a sindrome ma spesso può esserci anche una differenza che abbiamo visto anche all'interno della stessa sindrome. Avanti con la slide Ecco questa è una collaborazione con il gruppo di Giuseppe Merla insomma con la dottoressa Di Giro in cui proprio vedevamo appunto queste caratteristiche che potevano cambiare anche all'interno del stesso sindrome a seconda dell'entità della direzione quindi chi aveva una direzione più ampia aveva aspetti neurologici più compromessi come esempio l'aspetto dell'epilessia e l'aspetto dell'autismo. Qual è questo fenotipo cognitivo comportamentale? Andiamo a riassumerlo rapidamente quindi abbiamo detto sappiamo che i bambini hanno delle buone abilità verbali sicuramente le abilità verbali sono superiori alle abilità non verbali il linguaggio però anche se è un'area di forza spesso abbiamo visto è atipico cioè non è sempre funzionale alla relazione quindi un linguaggio che può essere a volte tangenziale un po' ripetitivo sono bambini i ragazzi che tendono a essere a volte molto loquaci quindi troppo a volte quindi magari rischiano appunto di non riuscire magari a interagire bene dal punto di vista della comunicazione non hanno spesso un buon contatto visivo questo anche a volte legato a degli aspettenziosi un deficit della comprenza attentiva sono bambini che possono avere spesso il DHD l'iperacusia ha un'altra caratteristica e poi ovviamente le caratteristiche un po' più costanti sono la difficoltà nell'ambito viso-spaziale e quindi nell'ambito viso-motorio e la personalità appunto ipersociale questa caratteristica appunto personalità che è abbastanza tipica di ipersocialità e poi ci sono nell'ambito di disturbi d'ansia in particolare in questa condizione ci sono soprattutto disturbi d'ansia generalizzate e fobie ora però noi sappiamo che queste competenze hanno delle traiettorie evolutive a volte cioè ci sono delle differenze ad esempio nell'ambito delle sindrome perché alcune competenze neuropsicologiche si sviluppano diversamente nel tempo questo è un confronto tra le sindrome di Down e le sindrome di Williams nel primo grafico si confrontano bambini con il sindrome di Down e il sindrome di Williams sotto gli otto anni in questo caso vedete come le competenze linguistiche in questo caso si sovrappongono quindi noi sappiamo che la Williams ha ottime capacità linguistiche la sindrome di Down invece è caratterizzata da un deficit linguistico generalmente nel suo profilo vede che invece in un'epoca evolutiva precoce tutto sommato queste due sindrome non si differenziano cosa che invece avviene successivamente cioè nell'ambito questo secondo grafico fa vedere bambini sopra i 12 anni in questo caso quindi in adolescenza si crea questa differenza quindi traiettorie evolutive che cambiano a secondo dell'età quindi non sono soltanto caratteristiche peculiari ma possono essere delle traiettorie evolutive peculiari torniamo al discorso del linguaggio linguaggio strumentalmente forte però abbiamo detto dal punto di vista funzionale cosa succede spesso sono bambini che parlano molto portano magari raccontano spesso magari aspetti personali che sono poco rilevanti nella conversazione quindi magari ripeto l'altra persona che ha la conversazione con loro fa fatica magari a mantenere una conversazione valida perché effettivamente l'interesse spesso è magari su interessi personali inoltre questa difficoltà anche nel rispetto delle regole sociali porta poi effettivamente diciamo ad una difficoltà ed una difficoltà anche nell'integrazione dal punto di vista sociale soprattutto poi vedrete in epoca adolescenziale quindi c'è un paradosso da una parte un linguaggio strumentale forte quindi dal punto di vista linguistico delle competenze molto buone a livello lessicale morfosintattico d'altro canto però l'aspetto funzionale del linguaggio è compromesso come poterle misurare queste competenze funzionali i test del linguaggio noi li conosciamo un po' tutti sono abbastanza facili da somministrare ci sono test in genere che fanno i logopedisti e valutano appunto gli aspetti più legati al lessico alla morfosintassi e comunque all'aspetto fonologico ma da un punto di vista funzionale cosa possiamo utilizzare il costrutto delle funzioni adattive il costrutto delle funzioni adattive sostanzialmente mette in interazione l'individuo con l'ambiente e l'individuo in questo caso deve svolgere delle attività in maniera autonoma per poter così diciamo rispondere alle esigenze appunto legate al proprio ruolo sociale quindi rispondere alle attese dell'ambiente per un individuo di parità cronologica e di pari contesto culturale e questo concetto dell'importanza di misurare i livelli di autonomia dal 2013 è diventato fondamentale dopo il nuovo DSM-5 il nuovo di agnostico l'ultima revisione e noi sappiamo che l'indice di gravità di una disabilità non viene più dato in base al quoziente intellettivo ma in base a questo quoziente adattivo ok e come si misura questo quoziente adattivo si misura attraverso delle scale che generalmente vengono somministrate ai caregivers o ai genitori in questo caso abbiamo diciamo un quoziente di sviluppo di funzionamento adattivo che sicuramente ci può dare un'indicazione generale ma quello a cui siamo interessati proprio per questi aspetti comunicativi è in particolare anche l'aspetto della comunicazione il dominio della comunicazione quindi abbiamo un grande dominio che ci dà un quoziente globale un quoziente che ci dà lo sviluppo delle capacità adattive in socializzazione un quoziente di sviluppo che ci dà un quoziente di funzionamento per contribuire delle abilità quotidiane e infine quello su cui ci concentriamo nelle prossime slide un quoziente che ci dice come funzionano dal punto di vista comunicativo e se vi guardate all'interno di questa scala comunicativa ci sono tre sottoscale tre sottodomini l'area della comprensione e la ricezione l'area dell'espressività e l'area della scrittura quindi l'area della ricezione e la comprensione è come un bambino ascolta presta attenzione come comprende le cose l'espressivo ovviamente come utilizza le frasi e le parole per dare delle informazioni scrittura come legge e come scrive quindi passiamo ad una dimensione microelaborativa quindi abbiamo detto elaborazione fonologica lessicale e morfosintattica ad una competenza più pragmatica in cui i significati veicolati da singole parole attraverso delle inferenze vengono utilizzati per relazionarsi con gli altri per avere delle interazioni tipo dialogico discorsive quali possono essere degli esempi per la comprensione come possiamo capire se il funzionamento della comprensione è valido ad esempio ci sono all'interno di queste scale che noi utilizziamo delle domande che indaghiamo ad esempio se il bambino comprende dei modi di dire oppure se ad esempio riesce ad ascoltare una lezione per 15 minuti oppure interagisce in una conversazione riuscendo ad esprimere le proprie opinioni ok oppure se banalmente se risponde a delle domande se allora cioè ad esempio se metti a posto i giochi allora poi puoi andare in giardino quindi insomma un aspetto più funzionale una misura più funzionale delle capacità comunicative e anche ovviamente per la parte espressiva se il bambino racconta le esperienze in modo dettagliato oppure ad esempio se modula in modo appropriato il tono il ritmo il volume della voce durante una conversazione e quindi abbiamo l'attenzione adesso su questi studi che comparano i livelli di autonomia nell'ambito delle sindrome non solo nella Williams vedete questo è uno studio che vi faccio vedere perché confronta diverse sindrome e in questo caso sostanzialmente si vedeva dal punto di vista delle autonomie dal punto di vista dell'attivo il profilo migliore lo presentava la signora di Pater Willi il profilo più forte il profilo meno forte più debole lo presentava bambini su un sindrome di Angel ma la cosa per cui vi faccio vedere questo studio è che sorprendentemente i bambini con l'X fragile e con la signora di Williams avevano un profilo adattivo simile non avevano differenza e questo ci ha stupito molto perché noi sappiamo che invece l'X fragile presenta molto spesso dei disturbi ad ansia sociale dei disturbi autistici molto gravi e quindi pensare che dal punto di vista dell'autonomia queste due sindrome potessero coincidere ci ha fatto riflettere questo è un altro studio dove sostanzialmente vengono utilizzati dei questioneri che valutano sempre l'autonomia non è proprio quello strumento che vi ho fatto vedere prima è un'altra cosa però vedete come in questo studio dove si confrontano tre gruppi adolescenti giovani adulti e adulti sicuramente l'area di interazione sociale e di comunicazione è un'area di forza ma quello che osservavano in maniera sorprendente questi autori è che nel corso del tempo questa competenza tendeva a ridursi mentre le altre autonomie erano meno sviluppate erano considerate meno aree di forza ma rimanevano abbastanza stabili nel tempo questa abilità che viene tenuta un'abilità in qualche modo peculiare forte in area di forza della sindrome vedete che nel corso del tempo però tende a diminuire tende a decrescere come competenza avanti questo invece è il nostro studio in questo studio abbiamo comparato all'interno della sindrome di Williams tre aree quindi il linguaggio quell'area che vi ho detto che misura l'area della comunicazione nell'ambito del funzionamento d'attivo e l'età mentale quindi una sorta di quoziente di sviluppo e noi sapevamo che alcuni studi avevano già mostrato che i bambini con la sindrome di Williams hanno delle fare di forza in comunicazione e socializzazione ve l'ho fatto vedere anche io alcuni studi in questo caso sostanzialmente noi abbiamo visto che è vero che l'area della comunicazione rispetto all'età di sviluppo è più forte sicuramente diciamo è un'area che è ben sviluppata però da un punto di vista all'interno dei domini abbiamo visto che in realtà mentre l'area espressiva e l'area della scrittura erano sicuramente aree di forza l'area della comprensione e della ricezione era significativamente più bassa addirittura rispetto all'età di sviluppo quando noi andiamo a vedere se un dominio settoriale un'area di tipo neuropsicologico può essere considerata un'area di forza o un'area di verbolezza l'unico modo che abbiamo in una condizione di disabilità è confrontarla con il quoziente intellettivo con l'età di sviluppo in questo caso quindi il dominio della comunicazione a livello generale era forte era significativamente più alto rispetto all'età di sviluppo ma in realtà in questo gruppo di 32 bambini andando a vedere il sottodominio della comprensione delle capacità di comprensione che ho fatto vedere prima come si possono misurare era inferiore rispetto alle attese avanti e allora abbiamo pensato vediamo se questa cosa cambia se noi splittiamo il gruppo in due in due gruppi di bambini più piccoli e bambini adolescenti ed effettivamente abbiamo visto che nel gruppo di bambini più piccoli l'area della comprensione non si differenziava più di tanto dall'età di sviluppo e la comunicazione rimaneva un'area forte mentre invece nel gruppo degli adolescenti effettivamente questa capacità di comprensione tendeva a peggiorare nel tempo e quindi era significativamente più bassa rispetto all'età di sviluppo stessa cosa abbiamo fatto per il linguaggio abbiamo fatto un confronto tra il linguaggio e quindi riabilità sostanzialmente di linguaggio strumentale misurato con dei test linguistici quindi test che misurano la produzione lessicale la comprensione lessicale la comprensione orfosintattica vedete come nei bambini più piccoli non c'era questa differenza quindi c'è più o meno il livello strumentale era in linea con il livello funzionale misurato dalle autonomie mentre invece vedete che negli adolescenti la capacità di comprensione a livello di autonomia non seguiva lo sviluppo linguistico a livello strumentale come se il linguaggio a livello strumentale migliora nel corso della vita ma non funzionalmente le capacità che noi abbiamo di comunicare nella vita quotidiana e quindi a un certo punto molti studiosi hanno iniziato a ragionare pensando anche ad un confronto tra la sindrome di Williams che aveva questa ipersocialità e la sindrome autistica quindi il disturbo dello spettro autistico c'è uno studioso un ricercatore italiano che però è stato negli Stati Uniti vivanti che ha fatto degli studi su questo confronto proprio perché c'erano delle caratteristiche in comune ed effettivamente secondo il suo parere le due condizioni condividono un po' delle difficoltà nell'ambito della cognizione sociale sostanzialmente sono bambini che fanno fatica a interpretare le intenzioni altrui fanno fatica a leggere un po' i messaggi che arrivano dall'esterno e dall'altra persona ed effettivamente l'ipotesi che lui fa è che ci sia un disturbo della cognizione sociale nell'ambito della sindrome di Williams che porta poi sostanzialmente ad una ad una percezione del mondo come un mondo amichevole per sociale quindi diciamo una difficoltà anche nel leggere alcuni comportamenti delle altre persone ad esempio nel decifrare dei comportamenti di rabbia delle altre persone quindi poi porta questa percezione della persona di un seguito una percezione del mondo di tipo ipersociale amichevole mentre invece nell'autismo i deficit cognitivi sociali più complessi portano poi ovviamente ad una percezione del mondo sociale come un mondo un pochino più caotico più indecifrabile e quindi portano l'iposocialità inoltre questo ricercatore sottolineava il fatto che notava ovviamente questa ipermotivazione nell'ambito sociale dell'ambito della Williams che però potrebbe essere un po' un'arma a doppio taglio cioè nel senso che i bambini con la sede di Williams hanno sicuramente una sovraecitazione emotiva durante le situazioni sociali che poi porta essa stessa però ad una disorganizzazione nell'elaborazione delle informazioni sociali stesse quindi un po' un'arma a doppio taglio ok mi avvio alla fine sono insomma gli ultimi slide questo è uno studio invece che abbiamo fatto noi c'erano studi che comparavano lo sviluppo delle autonomie nell'autismo e nella sindrome di Williams ma facciamolo vedere che soprattutto in epoca prescolare i bambini con sindrome di Williams erano più bravi da un punto di vista della socializzazione e della comunicazione ma non c'erano studi di letteratura che valutavano dei percorsi longitudinali cioè guardavano nel tempo cosa avveniva erano studi nel qui ed ora quindi abbiamo pensato di vedere appunto di fare questo confronto tra l'autismo e Williams e fare uno studio longitudinale quindi vedere cosa succedeva nel tempo bene quello che abbiamo visto è che effettivamente all'epoca del reclutamento c'era una differenza quindi per i bambini più piccoli c'era una differenza per quanto riguarda le abilità di socializzazione e comunicazione che erano più forti nelle sindrome di Williams ma questa cosa non si confermava nei dati longitudinali quindi si perde questa abilità migliore dei bambini con studenti Williams rispetto all'autismo proprio nella comunicazione si mantiene nella socializzazione probabilmente legata all'ipermotivazione sociale ma si perde nella capacità di comunicazione quindi una comunicazione comunque sovrapponibile nel tempo a quella che può esserci nell'autismo questo è uno studio di un collega di un collega svedese che abbiamo conosciuto recentemente ad un talk in Norvegia che ha dimostrato che sostanzialmente i bambini con la sindrome di Williams fanno fatica quando guardano l'altro nel guardare proprio gli occhi dell'altro quindi tendono a guardare più la bocca in questo caso ovviamente capite bene come sia importante quando noi ci interfacciamo con un'altra persona che lo sguardo sia rivolto agli occhi perché gli occhi ci danno molte informazioni sulle intenzioni altrui e in particolare quest'autore notava anche la difficoltà nel discriminare erano dei volti al computer quindi una difficoltà nel discriminare la rabbia ok sono bambini Williams che facevano fatica a riconoscere come emozione la rabbia un altro modo per studiare la condizione è lo studio della condizione della sindrome reciproca quindi dove non c'è la delezione ma c'è una duplicazione ci sono delle caratteristiche fisiche diverse vedete anche da un punto di vista dei dismorfismi ma la cosa interessante per noi neuropsichiatri è che c'è una differenza dal punto di vista del fenotipo comportamentale c'è descritto un fenotipo opposto alla sindrome di Williams nella sindrome della duplicazione della stessa regione c'è descritto sostanzialmente in letteratura una difficoltà da un punto di vista linguistico strumentale quindi sono bambini che parlano molto tardi sono bambini che non hanno una ipersocialità ma hanno un'iposocialità un'ansia sociale importante un univitamento anche sociale spesso possono andare incontro a problemi di tipo psicosi o aggressività ok e anche diciamo sintomatologia di tipo autistico quindi un fenotipo opposto sulla carta alla sindrome di Williams e questa è una review che è un po' insomma non mi dilungo perché già molte cose sono state dette che pone delle ipotesi sul perché questa differenza tra queste due condizioni quindi diciamo un'ipotesi che in realtà nella sindrome di Williams è accertata che c'è un ormone che è l'ossitocina che modula i comportamenti prosociali che è iperprodotto nella sindrome di Williams in questa review si ipotizza che nella duplicazione invece ci possa essere una sorta di ipoproduzione della stitocina e quindi per questo poi c'è questo comportamento contrapposto alla sindrome di Williams e inoltre poi diciamo ci sono altre evidenze come abbiamo detto che c'è un gene appunto quando la direzione comprende questo GTF2I questo gene sostanzialmente è quello che probabilmente giustifica l'ipersocialità cioè quando è compreso il soggetto è più ipersociale e quando non è compreso il soggetto è meno ipersociale oppure in considerazione della duplicazione molto spesso l'ipotesi è che essendoci la duplicazione di questo gene questa alterazione porti poi comunque ad un effetto negativo sulla sociabilità ora dette tutte queste cose sì come poi aiutare nel concreto questi ragazzi no? perché poi alla fine insomma sono tante ricerche però poi dobbiamo capire anche voi praticamente come aiutare questo è uno studio fatto su sì sì è l'ultimo è uno studio fatto su bambini da 1 a 7 anni in realtà la cosa per cui ve lo faccio vedere è che noi abbiamo messo insieme bambini con X fragile e bambini con sindrome di Williams vorrei farvi capire appunto che tipo di gruppo noi avevamo in entrambi i gruppi abbiamo avuto un miglioramento sulla responsività quindi sulla capacità di interagire e di relazionarsi con l'altro e sulla diciamo un indice generale appunto di gravità della compromissione dell'aspetto relazionale e questo come attraverso 15 incontri di parent coaching si chiama terapia mediativa dei genitori in cui il genitore è presente durante la terapia con l'operatore e quindi può apprendere tecniche che può poi riportare nella quotidianità e che permettono giorno per giorno di sviluppare al meglio queste competenze sociocomunicative relazionali che abbiamo visto sì da una parte sono un'area di forza ma dall'altra non sempre con la crescita si mantengono come riforze quindi sicuramente diciamo questo è uno studio su bambini più piccoli ecco l'importante sarà pensare anche per bambini più grandi e degli interventi più mirati che ci possono aiutare poi nel migliorare queste abilità io ho finito vi ringrazio grazie Paolo abbiamo tempo per una sola domanda facciamo una domanda dalla sala ho visto una mano alzata prego la signora questi ragazzi fino a una certa età quindi giovani la loro curva sale quindi hanno maggiori capacità interazione capacità di scrittura di relazionarsi man mano che crescono la curva comincia a scendere ma per le persone che hanno raggiunto una certa età 40 anni 30 anni cosa ci dicono gli studi avete qualche dato da poterci fornire anche qualche consiglio a livello familiare se insistere continuamente nel dare a loro delle stimolazioni quindi nella socialità nelle attività varie fisiche personali in modo da poterli comunque permettere una relazione sociale continua costante e non sentirsi poi all'età di 40 45 anni ghettizzati grazie grazie per la domanda allora intanto l'ipotesi è che non è che si riducono proprio solo spontaneamente le richieste ambientali aumentano la richiesta sociale incontra un bambino che ha 4-5 anni incontra un ragazzo di 15 anni quindi le richieste ambientali sociali ovviamente con la crescita dell'età aumentano vertiginosamente quindi è come se questa potenzialità che soprattutto ne vediamo nei piccoli poi si perde un po' perché effettivamente le richieste ambientali sono importanti quindi il bambino non riesce più a mettere diciamo sul campo quella diciamo quella caratteristica così positiva no? perché magari il bambino ha 4 anni che è molto piroquace molto socievole l'ambiente lo apprezza ma a 15 anni si è eccessivamente lo quale è eccessivamente socievole è sicuramente difficile per gli altri interagire quindi quello che bisogna fare non è ridurre la socialità ma modularla cioè quello che ho fatto vedere l'intervento psicoeducativo non è quello che facciamo con le famiglie che vengono in ospedale ci siamo sempre già da piccoli dare dei consigli dare delle indicazioni su come modulare la relazione le regole sociali ok? rispettare il turno dell'altro ok? sono più che diciamo degli interventi legati alla società in senso generale sono proprio degli interventi più specifici che vanno però creati cioè nel senso queste sono cose che noi acquisiamo in fronte della nostra esperienza probabilmente sono degli interventi un pochino più modulati questo è una sfida per il futuro anche se questo è importante per noi perché sappiamo cosa possiamo lavorare con le famiglie ok grazie allora passerei al prossimo spica la dottoressa Maria Cristina Di Giglio della unità di genetica medica del Bambin Gesù in Roma che ci parlerà dell'esperienza in un ospedale pediatrico circa la sinistra di Williams grazie ringrazio l'associazione e gli organizzatori per aver dato questa opportunità e parliamo dell'esperienza della mia esperienza dell'esperienza di un ospedale pediatrico nei confronti della sindrome di Williams avete già sentito parlare dei vari aspetti delle caratteristiche cliniche dei segni clinici delle malformazioni che possono essere presenti e come tutte le sindrome genetiche sappiamo che è una patologia che può riguardare il ritardo di sviluppo le malformazioni come la cardiopatia segni clinici un po' più particolari come lo strabismo la presa di sostituzione all'ernia l'ipertensione e tutto questo fa sì che sia necessario affrontare questo tipo di problematiche con un team di molti specialisti perché ecco abbiamo sentito Paolo Alfieri per la parte neuropsichiatrica è necessario questo tipo di specialista e per la parte malformativa può essere il cardiologo o può essere il nefrologo per la parte renale e così via ho messo i puntini per far capire anche tutti gli altri specialisti che non sono stati messi nella slide con un coordinamento generale che cerca di valutare anche quegli aspetti che mettono in relazione la parte malformativa con la parte di sviluppo neuropsichiatrico e nell'ambito della parte nostra diciamo che ci sono tre attività nel nostro interno genetica tre attività che sono quella della diagnosi quella del monitoraggio clinico e quello del counseling genetico e per quanto riguarda la diagnosi quello che prima di sottolineare anche come storico negli anni che se noi facciamo riferimento a tanti anni fa quando non esistevano le tecniche diagnostiche specifiche per la sindrome di Williams vedete che l'età media alla diagnosi per i bambini era di 6.4 anni e è chiaro che adesso questa età si è molto anticipata e grazie all'utilizzo di tecniche diagnostiche precoci e alla conoscenza maggiore della patologia e sicuramente questo porta un trattamento più precoce e quindi un miglioramento anche della prognosi di questo tipo di patologia però noi dobbiamo considerare che non è stato sempre così e che ci sono tanti specialisti che sono stati in qualche modo esercitati a riconoscere le caratteristiche cliniche e a stimolare l'intervento del genetista una diagnosi precoce ad esempio nel primo anno di vita che adesso è anche stimolata dal discorso clinico è perché i gastroenterologi quando vedono bambini che hanno difficoltà dell'alimentazione che non riescono a trattare nella maniera tradizionale spesso hanno loro stessi il sospetto della sindrome e così come i neurologi per la parte diciamo motoria di potonia o comportamentale specifica o addirittura un chirurgo che quando vede un'ernia inquinale nel primo anno di vita può capitare anche in un bambino che ha la sindrome però è come se fosse un po' una spia per la patologia e allora questo porta a diagnosticare a porre il sospetto precocemente e quindi consentire una diagnosi e anche la parte della cardiopatia essendo la cardiopatia un sintomo abbastanza frequente 75% dei casi ma anche specifico perché nella sindrome di Williams ci sono due cardiopatie che sono se possiamo andare alla prossima diapositiva che sono anatomicamente molto tipiche e non sono presenti in altre patologie quella precedente credo che sono molto tipiche perché sono caratteristiche della sindrome di Williams e non sono presenti in altre sindrome e sono raramente presenti isolati che sono la stenose ottica sopravvalvolare e le stenose periferiche delle arterie polmonari quando un cardiologo vede la nascita questo tipo di cardiopatie è comunque una spia molto tipica per la sindrome di Williams e dal punto di vista diagnostico dicevo se possiamo andare alla prossima immagine e possiamo considerare che le tecniche non sono state sempre così buone come quelle che abbiamo adesso e c'è stato un periodo abbastanza sperimentale per quanto riguarda le diagnosi possiamo andare alla prossima ancora questa era un'immagine per far capire che oltre alle cardiopatie quelle tipiche però in realtà ci sono anche delle cardiopatie un po' più atipiche perché come tutte le sindrome genetiche anche nella sindrome di Williams c'è molta variabilità clinica allora è chiaro che se uno trova una stenose aortica sopravvalvolare è più facile arrivare alla diagnosi se uno vede un bambino con sindrome di Williams senza cardiopatia o con un difetto interventricolare che è comune nella popolazione la diagnosi potrebbe essere un pochino più difficile e la diagnosi viene effettuata con il riscontro della microdirezione del cromosoma 7 quindi questa mancanza una regione cromosomica specifica parlo di microdirezione perché l'entità è molto piccola 1,5 1,8 megabase al di sotto di quella che è la risoluzione del cariotipo e sicuramente il professore della piccola si ricorderà quando nel credo che fossero gli anni 90 con Antonio Novelli abbiamo fatto del cerchiamo di trovare delle tecniche per poter diagnosticare rapidamente utilizzare la fische per cui Antonio aveva messo su una tecnica di fische sui vetrini noi mandavamo anziché mandare il sangue il pregiamo del sangue il vetrino lo striscio del paziente e lui andava a trovare questa questa delezione e parliamo un po' fantascienza diciamo della prima esperienza in ambito diagnostico e adesso diciamo dopo la fische esistono anche delle tecniche per poter quantificare l'ampiezza della delezione abbiamo già sentito parlare di delezioni atipiche ma sappiamo molto in sintesi che ci sono dei geni come il gene dell'elastina che è un gene fondamentale per la parte vascolare per la parte malformativa cardiaca e che ci sono anche altri geni che sono fondamentali per altri sintomi quasi tutti i bambini con sirmonia Williams hanno la stessa entità di delezione però esistono delle delezioni un pochino diverse che danno dei sintomi aggiuntivi e per cui noi sappiamo adesso che se la delezione è più larga e comprende determinati geni potrebbe esserci una maggiore predisposizione all'autismo geni che non sono inclusi nella delezione classica oppure una maggiore predisposizione all'epilessia ad esempio che non è un sintomo tipico della sindrome di Williams o come c'è anche il discorso di l'esclusione di determinati geni che può dare dei fenotipi più lievi o più leggeri e recentemente capitato di osservare due famiglie una addirittura siamo familiari mamma e figlia è un caso singolo direzioni ancora più atipiche che riguardano la delezione distale nel senso che noi siamo abituati a dire che nella sindrome di Williams molto del fenotipo è legato al genere dell'elastina che è compreso nella direzione classica queste queste sono delle lezioni invece che non comprendono il genere dell'elastina sono spostate un pochino più avanti però il fenotipo ventofacciale è sovrappolibile da quello della sindrome di Williams e anche il profilo neurocomportamentale probabilmente per la non inclusione del genere dell'elastina questi bambini non hanno cardiopatia congenita la prossima diapositiva per favore torniamo quella indietro la seconda fase è quella del monitoraggio clinico ci sono tutta una serie di linee guida internazionali e nazionali che prevedono che ci possano essere delle visite previste in tempistiche particolari visite specifiche da dover fare in varie età e quindi ci danno delle indicazioni di massima per poter fare le visite necessarie farne le tempistiche necessarie e escludere quelle visite eccessive che a volte si fanno nei bambini con le sindrome genetiche cercando di voler fare il massimo di quello che si possa fare per cui ci sono dei protocolli che prevedono che nel neonato nel bambino nel lattante si facciano determinati controlli nella prima infanzia degli altri per arrivare all'adolescenza e adesso anche dei protocolli internazionali che riguardano l'età adulta questi protocolli possono riguardare lo vediamo nella prossima diapositiva ad esempio la crescita voi sapete quanto i bambini con la sindrome di Williams possano avere dei pattern di crescita diversi rispetto a quelli che vediamo nei bambini che non hanno la sindrome e spesso i pediatri tendono a voler eccedere con controlli capire cercare di capire perché il bambino piccolo non riesce a crescere che è qualcosa di un po' costituzionale della patologia per cui fare riferimento a delle curve di crescita specifiche sicuramente è molto utile e questi sono schemi molto sintetici in cui ci dì sappiamo quello che dobbiamo fare e quando lo dobbiamo fare con personalizzazione cioè valutare che cosa è necessario per ogni singolo bambino perché come vedete i segni clinici non sono ogni singolo segno clinico non è presente in tutti i bambini e per cui se un bambino non nasce con lo strabismo non lo sviluppa nei primi tre anni di vita sicuramente non c'è una predisposizione successivamente quindi non so i controlli ortotici vengono considerati fino a che l'oculista ritiene indicato ma poi non devono essere personalizzati per tutta la vita e quindi diciamo che ci vuole anche una situazione di mediazione di valutare per quel singolo paziente che cosa effettivamente serve e queste diciamo raccomandazioni perché poi sono anche raccomandazioni ma non legge possono essere utili anche ai medici che seguono cioè nel senso questo io come esempio ho voluto mettere la parte cardiologica perché un cardiologo un cardiochirurgo che devono non so operare un bambino con la sindrome di Williams non tiene non deve tenere soltanto conto dell'anatomia specifica della stenosi del restringimento sopravvalvolare ma deve tenere in considerazione che la sindrome è una vasculopatia che può riguardare anche altri distretti per cui non so le arterie coronarie possono essere interessate spesso si fanno delle angiografie per valutare l'anatomia delle coronarie prima di fare un intervento perché sappiamo che il cardiologo in questo modo non si trova di fronte a sorprese di anatomie che non si aspettava e che non poteva vedere soltanto con l'ecografia o ecco tenere in considerazione in base ai sintomi che ci può essere un interessamento cerebrale un interessamento renale anche di altri organi che ci possono essere non so delle difficoltà nell'intubazione o che ci possono essere delle reazioni anomali a determinati farmaci quindi tutto quello che si deve servire per una preparazione adeguata per l'intervento chirurgico che non è come un intervento che viene fatto ad altri bambini e per ultimo il counseling genetico che non è qualcosa di importante che è qualcosa che viene fatto a momento della diagnosi però spesso non viene percepito perché si dà molta importanza al capire le caratteristiche cliniche della patologia però può essere ribadito poi successivamente perché è un counseling che riguarda la coppia di genitori noi sappiamo che nella maggior parte dei casi la sindrome di Williams è una patologia non ereditaria che insorge di nuovo in una famiglia quindi i genitori sani non c'è nulla in famiglia e nasce il bambino con questa sindrome viene dimostrata la delezione nel bambino non viene dimostrata nei suoi genitori e questo fa sì che i genitori quando avranno un altro figlio non avranno un rischio evolutivo aumentato per la sindrome di Williams perché casualmente diciamo la rottura avviene in un bambino ma è altamente improbabile che questo si ripresenti quindi diciamo c'è il rischio in realtà che è uguale a quello della popolazione generale e le persone che hanno la sindrome di Williams avendo la delezione su uno dei due cromosomi avranno la possibilità di trasmettere la patologia al 50% dei figli perché possono dare o il cromosoma con la delezione o il cromosoma sano ogni volta che concepiscono un figlio e i fratelli e le sorelle dei pazienti con sindrome di Williams invece non hanno un rischio aumentato rispetto a quello della popolazione generale perché essendo i loro genitori sani non hanno trasmesso la delezione al figlio con la sindrome di Williams ma loro non sono portatori sani di nulla e quindi non avranno un rischio riproduttivo aumentato per la sindrome anche se hanno avuto un fratello e una sorella con la patologia e questa era l'ultima vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Maria Cristina ci hai fatto anche guadagnare un po' di tempo quindi ancora grazie se ci sono delle domande Angelo se ricordi è pronto Angelo se ricordi è pronto per una domanda Maria Cristina dunque grazie per la presentazione io ho due domande una più tecnica e una più generale quella tecnica è qualche tempo fa abbiamo letto dei lavori che segnalavano sul piano cardiologico una aumentata frequenza di aumento del cutico arretto nei bambini Williams da tenere presente soprattutto in fase di anestesia per l'uso di certi farmaci poi è una cosa che è sparita è andata un po' non viene mai troppo sottolineata quindi essendo tu un'esperta soprattutto di aspetti cardiologici volevo un commento da parte tua su questo la seconda domanda più che una domanda è un commento noi troviamo grande vantaggio proprio rispetto alla gestione e alle problematiche dell'emergenza a consegnare ai genitori una scheda d'emergenza dove vengono tratteggiati sia le problematiche del bambino sia le problematiche potenziali di questi bambini perché pensare a un bambino piccolo a un infarto o a un ragazzo giovane a una diverticolite non è per niente tipico per persone non esperte di sindrome di Williams volevo sapere se anche questa è la tua esperienza si ti ringrazio per la parte del cutillungo effettivamente è un dato di letteratura che è uscito e devo dire che la nostra cardiologia lo tengono in considerazione per cui inseriscono sempre anche la visita ritmologica con la misurazione del cutillungo prima dell'intervento è un dato che è emerso letteratura e poi effettivamente come dici tu è un po' scomparso per cui nel nostro ospedale in questo momento gli aritmologi stanno rivalutando raccogliendo gli elettrocardiogrammi dei pazienti per valutare se effettivamente è un'esperienza anche nostra perché da dati preliminari tutta questa incidenza alta in realtà non si vede però in mano agli aritmologi perché effettivamente loro spiegavano che devono valutare l'età come è stato fatto l'elettrocardiogramma e queste misurazioni che fanno loro quindi non ho dati definitivi però effettivamente vogliono verificare questo e vediamo credo che è uno studio di un paio d'anni e poi vediamo che cosa raccolgono e per la parte dell'emergenza sono assolutamente d'accordo con Conte infatti ho apprezzato molto quel libro che avete fatto a livello Singeped sull'emergenza nelle sindrome genetiche perché è fondamentale dare ai pazienti e di conseguenza ai medici di pronto soccorso anche ai pediari di base le informazioni su quelli che possono essere i fattori di rischio assolutamente con informazioni su come questi rischi possono essere sicuramente a commento su come QT questions we recently did a study sort of comparing that in patients in general and found that to some degree the people with Williams syndrome have a longer QTC than is typical but not necessarily in many cases long enough to actually do bad things and we also see that it tends to be correlated with heart rate which we showed was also elevated that was sort of imperfectly corrected for by the C which is in QTC corrected that it was just imperfectly corrected for so we do think that there is something that is sort of Williams specific to it but in most cases it is not sort of having negative outcomes unless it sort of gets to a certain length sort of getting closer to 480 over 500 kind of a thing so in general we are looking at that number and recommend looking at medications that people are on that could further prolong QT and people and having conversations with families in which somebody's QTC is sort of pushing a little bit further to just say is this the best medication for you in sort of combination for that thanks allora grazie possiamo passare al prossimo relatore che è il dottor Selicorni direttore della genetica clinica pediatrica dell'ospedale Santana di Como quale ci parlerà ci aggiornerà anzi della malattia della celiaca nella sindrome bene buongiorno grazie al presidente Torlonia del cortese in vita è sempre un piacere partecipare a queste giornate di aggiornamento e di approfondimento io oggi vi racconterò qualche cosa un update sulla tematica malattia celiaca e sindrome di Williams anche perché negli ultimi anni lavorando un po' sull'approfondimento della conoscenza della storia naturale di questa condizione ho potuto fruire della collaborazione una collega gastroenterologa pediatrica pediatra molto attenta e molto dedicata che ci ha aiutato molto a lavorare in questo ambito vediamo se scusate allora la malattia celiaca è una malattia molto comune è un'interopatia una malattia autoimmune causata dalla ingestione dall'esposizione al glutine in pazienti che sono geneticamente suscettibili e può colpire pazienti e persone a qualunque età si stima che la prevalenza della celiachia sia intorno all'1% anche se in alcune popolazioni sono segnalate percentuali leggermente diverse ed è più comune nel sesso femminile rispetto al sesso maschile abbiamo detto che dal punto di vista patogenetico esistono dei fattori necessari genetici predisponenti che riguardano alcuni aplotipi del sistema maggiore di stocompatibilità di HLA di Q2 e di Q8 e l'esposizione come abbiamo detto al glutine la base genetica della condizione è sottolineata dal fatto che per i familiari di un paziente con celiachia c'è un rischio intorno al 10-15% di sviluppare la malattia e il livello di concordanza di presenza di malattia in coppie di gemelli monozigoti è alta e tra il 50-75% quindi sottolineando il peso della genetica ovviamente oltre a questi due fattori la genetica e l'esposizione ci sono tutta una serie di altri fattori che possono influenzare lo sviluppo della malattia sappiamo che c'è un asse cerebrale intestinale ci sono variazioni a livello del sistema microbiomico il microbiota infezioni l'esposizione al glutine e poi sappiamo che ci sono altri fattori genetici non riferiti alla HLA e come in tutte queste cose anche l'epigenetica un suo peso sembra averlo dal punto di vista patogenetico sappiamo che è un discorso abbastanza complesso che ha a che fare con l'attivazione appunto dell'immunità cellulomediata delle cellule T che interagendo con queste proteine che vengono in qualche modo internalizzate a livello intestinale creano degli autoanticorpi che danneggiano la mucosa intestinale portando a un danno della mucosa intestinale che vedremo tra un attimo questa diapositiva ci fa vedere quelli che sono gli autoanticorpi che vengono dosati e che sono un po' il cardine del percorso diagnostico delle persone con celiachia quindi gli antitrasglutaminasi gli antiendomisio e gli antigliadina e sulla parte destra della slide vedete sensibilità e specificità di questi autoanticorpi e si vede molto bene come i primi due che poi vedremo nella flociare diagnostica sono gli elementi cardine sono quelli più sensibili e più specifici dicevamo che il danno che viene in qualche modo causato è un danno molto chiaro c'è una classificazione molto precisa a livello bioptico intestinale che permette proprio di riconoscere una situazione compatibile con celiachia oppure di normalità vedete ci sono due classificazioni nella marsh oberhuber è la più usata soprattutto da noi tipo 1 è una situazione in quadro di normalità dal tipo 2 in poi sono tutte situazioni compatibili con la diagnosi di celiachia dal punto di vista clinico e dobbiamo dirci questo un po' sottolinea la complessità del problema è definita una sindrome una condizione abbastanza camaleontica nel senso che è estremamente variabile dal punto di vista della sua espressione ha due picchi di incidenza in particolare nei primi due anni di vita e poi nella seconda terza decade di vita e sappiamo che può essere molto variabile da paziente a paziente esiste chiaramente la forma classica con sintomi gastrointestinali come vedete diarrea perdita d'appetito distensione addominale scarso accrescimento che facilmente fanno venire in mente questa condizione ma in bambini più grandi o anche negli adulti la situazione può essere molto più variabile con diarrea ma anche stipsi dolore addominale o perdita di peso e poi e qui entra un po' in gioco la tematica complessa vedete c'è un lunghissimo elenco di manifestazioni extraintestinali vedete ritardata pubertà menorrea fatica cronica irritabilità neuropatie artriti artralgia anemia carenziale di ferro alterata mineralizzazione ossea con un rischio di fratture la stomatite aftosa la dermatite appetiforme vedete anomalie dello smalto dentale ipertransaminasemia tutte manifestazioni estremamente aspecifiche che possono essere presenti e possono essere anche l'unico segno che questo paziente ha dal punto di vista della sintomatologia e infatti questo è bene raffigurato da questo iceberg che riassume la sintomatologia della condizione abbiamo una parte intorno al 28% 30% che ha le manifestazioni tipiche una parte con manifestazioni atipiche e una grossissima parte che è quella che sta sotto l'acqua di forme silenti dove effettivamente noi non abbiamo grandi sintomi ma a livello intestinale c'è un danno e questo può creare le complicanze legate alla condizione e poi viene definita una forma potenziale di celiachia dove abbiamo una serologia positiva ma andando a controllare la biopsia intestinale acquisita per via endoscopica abbiamo una normalità della biopsia intestinale dal punto di vista diagnostico il percorso è relativamente semplice si fa uno screening con questi anticorpi antitranslutaminasi quando questi sono aumentati si passa al dosaggio degli anti-endomisio le nuove linee guida dell'ESGAN ci dicono che quando il titolo di questi anticorpi è superiore a 10 volte la normalità e gli anti-endomisio sono positivi possiamo evitare di fare la biopsia intestinale e considerare il paziente affetto da celiachia e quindi introdurre la dieta senza passare dal percorso bioptico quando invece il titolo è aumentato ma non superiore a 10 volte con la positività degli anti-endomisio dobbiamo andare a eseguire la biopsia e a quel punto in base alla classificazione che vi ho fatto vedere vedremo se il paziente ha o non ha la celiachia noi sappiamo che esistono alcune condizioni e questo è riportato appunto anche nelle linee guida dell'ESGAN in cui la celiachia è più frequentemente presente vedete tutta una serie di condizioni autoimmuni l'atropatia cronica giovanile la nefropatia IGA anomalie autoimmuni tiroidea anomalie autoimmuni epatiche e vedete tre condizioni che tutti quanti ben conosciamo la sindrome di Down la sindrome di Turner e la sindrome di Williams e quella percentuale del 9,5% si riferisce al primo lavoro significativo da questo punto di vista che è stato pubblicato lo vedremo tra un attimo dal gruppo proprio del bambino Gesù con il dottor Gianotti questa diapositiva ci dice due cose importanti la prima nelle linee guida sempre ESGAN del 2012 si dice che nei pazienti a rischio aumentato quindi familiari di soggetti affetti o persone appartenenti alle categorie che vi ho fatto vedere è fortemente indicata l'esecuzione e la tipizzazione dell'HLA perché è solo l'1% dei pazienti celiaci non ha o il DQ2 o il DQ8 e dall'altra parte l'altra diapositiva ci dice che questo screening va fatto anche nei pazienti asintomatici proprio per la ragione che avete visto nell'elevata quantità di forme silenti dal punto di vista della sintomatologia ma in qualche modo presente la patologia a livello intestinale allora facciamo un piccolo passaggio se noi andiamo a vedere nella storia naturale dei ragazzi Williams è ricca e questi sono dati raccolti da una revisione della professoressa Pober di una sintomatologia abbastanza variegata e a volte a specifica a livello addominale possiamo avere una sintomatologia colica difficoltà di alimentazione ci ha fatto vedere Maria Cristina l'andamento particolare del peso e sappiamo che poi da una certa età in avanti c'è anche una tendenza al sovrappeso abbiamo visto la prevalenza di stipsi di reflusso gastroesofageo e poi i famosi dolori addominali a ricorrenti che sono un po' la tomba dei gastroenterologi pediatrici perché possono essere di tutto di più sappiamo e abbiamo è stato ricordato anche dal presidente Torlonia in apertura la prevalenza della patologia di verticolare del colon nei pazienti Williams il prononassolettale e poi abbiamo visto il discorso della celiachia ma quello su cui vorrei portare l'attenzione che rende tra virgolette un po' difficile il discorso della diagnosi sulla base dei sintomi è che noi sappiamo che in età pediatrica in generale ma ancora di più nei pazienti con sindrome di Williams noi ci dobbiamo porre il problema della presenza di dolori funzionali quante volte vediamo ragazzini qui parlo da pediatra come dire generale non pediatra che si occupa di bambini sindromici bambini che hanno questi dolori addominali fatti tutti gli esami del mondo non si trova niente si dice sia un dolore funzionale il famoso asse intestino cervello noi sappiamo e questo c'è stato detto anche precedentemente che i ragazzi pazienti Williams hanno un ammarcato sviluppo di ansia e tutto questo può creare anche nella mente del medico un circolo vizioso per attribuire a un discorso ansioso e quindi a un disturbo funzionale una sintomatologia riferita di dolorabilità addominale che magari invece è espressione di una malattia celiaca e allora quali sono i dati riguardo alla celiachia della sindoma di Williams il primo lavoro del 96 aveva trovato una prevalenza bassa sostanzialmente sovrapponibile a quella della popolazione generale vedete un paziente su 71 un 1,4% poi a buttare l'allarme era stato proprio il gruppo del bambino Gesù con un lavoro che aveva come primo nome il dottor Gianotti e ovviamente come referente scientifico il professor Dalla Piccola che segnalava una prevalenza invece decisamente superiore intorno al 9,5% nei pazienti da loro valutati con una differenza significativa rispetto a una popolazione normale di controllo andando avanti dunque vediamo se andiamo avanti sì no aspettate andando avanti di nuovo un altro lavoro aveva dato una prevalenza intermedia e un lavoro di una cinquantina di pazienti generato dal gruppo del Meyer aveva riportato un pochino in dubbio l'associazione dicendo ma no una prevalenza intorno al 2% non particolarmente elevata e interessante confermava e diceva attenzione perché a differenza della sindrome di Down e della sindrome di Tyler dove sappiamo esserci un'aumentata frequenza anche di molte altre patologie autoimmuni pensiamo alle tiroiditi pensiamo alla vitiligo e via discorrendo voi vedete nel riquadro tutte le analisi fatte rispetto all'autoimmunità dei pazienti Williams escludevano la presenza di una predisposizione generica all'autoimmunità quindi vedete a seconda del tempo prevalenze diverse in lavori diversi a quel punto abbiamo grazie a un lavoro che abbiamo messo insieme attraverso un progetto di tesi abbiamo provato a valutare la prevalenza in un gruppo significativo di pazienti che noi abbiamo in carico un centinaio di pazienti con un'età media di 13 anni e abbiamo trovato 7 pazienti con sindrome di Williams 5 dei quali sintomatici voi vedete nella tabella i vari sintomi e 2 asintomatici cioè identificati grazie allo screening che noi abbiamo fatto che introduciamo nel nostro percorso di follow up vediamo se va avanti ecco quindi anche qui mettendo insieme raccogliendo tutti i dati della letteratura pubblicati si vede che se noi consideriamo tutto quanto i pazienti testati e i pazienti positivi corrispondono a un 7-7% quindi decisamente superiore all'atteso per la popolazione generale quindi una situazione certamente significativa nella casistica nella prima casistica che abbiamo analizzato siamo andati a vedere nella situazione HLA perché come si dice non esiste sostanzialmente una diagnosi di celiachia senza una positività degli HLA predisponenti il dato HLA era presente solo in meno della metà dei nostri pazienti e andando però a vedere com'era la caratterizzazione abbiamo trovato un dato interessante cioè uno la nostra prevalenza era intorno al 7% quindi confermava l'associazione ma abbiamo trovato uno sbilanciamento in termini di HLA predisponenti 69% che è decisamente superiore rispetto alla distribuzione che ci si attende nella popolazione generale per cui nella conclusione noi abbiamo in qualche modo sottolineato che forse poteva esserci un aumento di celiachia nei pazienti Williams perché forse per qualche strana ragione c'è una sorta di maggior prevalenza di HLA predisponenti nei pazienti Williams e concludevamo cautamente dicendo ovviamente questa cosa va verificata e confermata con altri studi per cui e questo sono contento di potervelo mostrare perché è uscito due giorni fa proprio su The Review dell'American Journal of Medical Genetics abbiamo cercato di collaborare con altri gruppi che seguono bambini e ragazzi Williams a livello italiano e abbiamo raccolto i dati di 93 pazienti in cui era stata fatta una caratterizzazione HLA andando anche a valutare la prevalenza di patologia autoimmune in questa categoria intanto viene ulteriormente confermata la associazione la prevalenza nettamente aumentata di celiachia in questi pazienti rispetto alla popolazione generale abbiamo 10 pazienti su 93 celiaci di cui vedete un terzo assolutamente asintomatici quindi warning molto chiaro e 7 su 10 sintomatici con una sintomatologia sì intestinale ma anche extraintestinale quindi confermando un po' questa presentazione camaleontica come viene definita della patologia dopodiché siamo andati a verificare il discorso degli HLA e ampliando la casistica come è un'ipotesi assolutamente ragionevole si è visto che in effetti non c'è nessuno sbilanciamento la presenza di HLA predisponenti è presente in tutti i nostri pazienti celiaci ma ha una distribuzione sostanzialmente sovrapponibile quindi non significativamente diversa da quella della popolazione generale andando a guardare il tema dell'autoimmunità abbiamo visto che è vero questi pazienti hanno una storia familiare positiva per patologie autoimmuni ma andando a vedere in loro la prevalenza di patologie autoimmuni pensiamo al diabete all'ipotiroidismo e ad altre condizioni tipicamente autoimmuni è del tutto sovrapponibile alla popolazione generale noi sappiamo ci sono state pubblicazioni anche noi in passato abbiamo contribuito a questo che i bambini e i ragazzi Williams possono soffrire di un ipotiroidismo subclinico che è tutt'altro rispetto alla patologia tiroidea autoimmune è qualcosa che è più prevalente quando sono piccolini e poi va a in qualche modo normalizzarsi col tempo in una sorta di maturazione dell'asse ipotalamo-ipofisaio-tiroide per cui la nostra conclusione in qualche modo definitiva a questo punto è che è assolutamente confermata l'aumentata prevalenza di malattia celiaca nei pazienti Williams è confermato che a differenza della sindrome di Down e della sindrome di Tanner questa non è espressione di una aumentata prevalenza generica di patologie autoimmuni ma si riferisce esclusivamente alla situazione relativa alla malattia celiaca e non abbiamo un aumento degli HLA per i disponenti cioè la distribuzione è identica a quella sovrapponibile a quella della popolazione generale per cui per cui forse non va me la date voi sì ecco appunto abbiamo confermato le cose che abbiamo detto abbiamo sappiamo come dire riaffermiamo la massima attenzione a questa sintomatologia estremamente specifica e ovviamente diciamo che esattamente come avviene nei pazienti della popolazione generale la dieta di esclusione è una dieta assolutamente efficace che permette una remissione della sintomatologia e permette soprattutto dal mio punto di vista l'evitare lo sviluppo di tutta una serie di complicanze dall'osteoporose all'infertilità ai sintomi che vi ho fatto vedere fino a quelle rare condizioni anche oncologiche di carcinoma intestinale o di linfoma intestinale associate alla celiachia mi dà la prossima ecco quindi riassumendo le nostre raccomandazioni e tra l'altro la nostra collega la dottoressa Parma che ha seguito tutto questo lavoro fa parte un po' del gruppo che sta collaborando a livello internazionale con la stesura delle linee guida internazionali sulla sindrome di Williams la nostra proposta è quella di dosare questi anticorpi antitrasluminasi entro i due anni di vita per vedere la situazione ma soprattutto diagnosi di sindrome di Williams è importante tipizzare per HLA questi pazienti perché se l'HLA predisponente è presente a questo punto è indicato eseguire anche di fronte a una situazione di mancanza di sintomatologia eseguire periodicamente ogni due o tre anni il dosaggio degli anticorpi se invece l'HLA predisponente non c'è a quel punto a meno di una sintomatologia molto evidente che farebbe ricadere quel paziente in quell'uno per cento dei pazienti che possono avere celiachia pur non avendo HLA predisponenti a quel punto è un problema che scotomizziamo e mettiamo via ovviamente se non è stato fatto il discorso della tipizzazione HLA è giusto controllare periodicamente la situazione c'è molto dibattito rispetto a questo discorso dell'HLA però dal nostro punto di vista è estremamente importante perché ci permette di escludere una fetta significativa di pazienti che considereremmo non a rischio di sviluppare questa condizione altro discorso abbastanza articolato e di dibattito tra gastroenterologi degli adulti e pediatri che riguarda il paziente adulto nel senso che il paziente adulto a fronte di una sintomatologia ha un senso che venga testato perché quello che si pensa è che la patologia dell'adulto è una diagnosi mancata nel bambino quindi se noi facciamo bene il nostro lavoro in età pediatrica ce lo portiamo a casa in eredità anche per l'età adulta concludo ringraziando appunto la dottoressa Parma che è la persona che ha seguito questa attività e che continua a darci una mano in un ambulatorio dedicato di gastroenterologia per i bambini sindromici nel nostro reparto e le due colleghe giovani colleghe ed è bello appassionare ragazzi giovani all'approfondimento della storia naturale all'assistenza delle sindromi perché è tutto un guadagno che ci portiamo a casa per il futuro e ringrazio voi per l'attenzione grazie grazie angelo anche qui grazie per questa presentazione tra l'altro ci insegna anche che i grossi numeri servono per non fare deduzioni errate allora abbiamo veramente il tempo per una domanda perché siamo terribilmente in ritardo se c'è la possibilità se c'è la possibilità non ho visto mani alzate forse che non c'è gli occhiali se non c'è allora c'è angelo grazie per la presentazione volevo chiederti una curiosità insomma c'è l'associazione in alcuni studi tra la celiachia e l'epidessia ma al di là di questo insomma volevo capire se in quella casistica dove avete trovato appunto la malattia celiaca se c'era una caratterizzazione da un punto di vista neurologico più generale o se si poteva pensare eventualmente di approfondire questo aspetto per capire se una casistica che da un punto di vista neurologico o neurocomportamentale ad esempio l'ansia può avere delle caratteristiche più specifiche come tu sai l'associazione celiachia e epidessia è associata anche a calcificazioni cerebrali è una sorta di patologia un po' a sé gestante che esula dalla celiachia e dall'associazione della celiachia con condizioni sindromiche come il down il tanner eccetera dal punto di vista del fenotipo specifico devo dire onestamente noi non abbiamo fatto una caratterizzazione precisa dei pazienti celiaci a percezione quindi con i limiti della percezione io non vedo non mi pare di ricordare situazioni particolari in un senso piuttosto che nell'altro però visto che i numeri non sono elevatissimi potrebbe essere un ambito di approfondimento per aggiungere informazione ok grazie quindi stiamo rimanendo un po' nel tema possiamo passare grazie Angelo grazie per la presentazione chiamerei la dottoressa Gaia Morice o Morice mi chiedo scuso per la esattezza in caso che proviene dalla clinica Villa Mafalda di Roma e ci parlerà appunto nei prossimi un quarto d'ora 20 minuti delle strategie nutrizionali nella sindrome di Williams così ci accompagna al pranzo perfetto allora buongiorno a tutti io vi parlerò della strategia nutrizionale per la sindrome di Williams ci rivolgiamo soprattutto alla parte della popolazione adulta proprio perché andremo a ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari l'ipertensione le malattie aspetti come siamo ok no aspettate che ok allora ci rivolgiamo più che altro alla popolazione adulta quella che appunto vediamo avere maggiori problemi rispetto all'eccesso ponderale l'eccesso ponderale aumenta ovviamente il rischio delle malattie cardiovascolari l'ipertensione l'assetto lipidico alterato nel circo lematico quindi l'ipercolesterolemia l'iperficeremia e il diabete vendito di tipo 2 oltretutto la strategia nutrizionale per la sindrome di Williams andrà a cercare di ridurre anche tutti gli effetti tutte le patologie gastroenteriche come la stipsi la diverticolite quindi diverticoli il prolasso rettale e l'emorrodi andremo a vedere quindi ora come fare innanzitutto parliamo del diabete mellito di tipo 2 il diabete mellito di tipo 2 vediamo come abbia una forte incidenza nei pazienti con il diabete con la sindrome di Williams se infatti il 75% dei casi presenta un'anomala tolleranza al glucosio e di questa percentuale il 39% sviluppa una condizione prediabetica mentre il 36% sviluppa un diabete vendito di tipo 2 conclamato questo perché il grasso è localizzato prevalentemente sulla parete addominale e questo appunto fa sì che possiamo andare avanti con la slide e questo appunto vediamo come fa innescare un circolo vizioso più il paziente aumenta il grasso addominale tanto più si ha un'iperinsulinia più l'organismo produce insulina più ah ok mi scusi più il il paziente aumenta di peso e più il corpo andrà a produrre insulina più il corpo produce insulina più il paziente sentirà il senso della fame questo comporterà a quel punto ancora di più un aumento ponderale e a questo e andando avanti questo determinerà un'incapacità di sostenere l'iperproduzione compensativa delle cellule e quindi il diabete conclamato di tipo 2 ora in campo nutrizionale che cosa si fa si cerca di aumentare innanzitutto la fibra quindi la verdura perché aumentando la verdura la verdura all'interno alla fibra che svolge svariate funzioni all'interno dell'organismo perché aumenta il senso di sazietà rallenta lo svuotamento gastrico e migliora la funzionalità intestinale il consiglio che io do sempre è di prendere quattro porzioni di verdura al giorno una prima del pasto e una dopo il pasto in modo da inglobare quello che poi noi andiamo ad assumere al pasto stesso le verdure devono essere il più variegato possibile cioè non possiamo pensare di mangiare soltanto un tipo di verdura come si fa questo perché noi sappiamo che poi i pazienti con la sinuola di Williams dobbiamo tener conto anche dell'aspetto psicologico del paziente e quindi non possiamo essere legati soltanto alle linee guida perché poi sarebbe impraticabile e ergo inutile bisogna farli avvicinare alle verdure sicuramente fin da piccoli un po' con dei giochi per esempio c'è un gioco divertentissimo che io cerco di fare anche con i bambini insomma che seguo dai tre anni in su che è quello del diario alimentare il diario alimentare vuol dire che il paziente deve disegnare quando è piccola la verdura e dare un voto cucinarla con la mamma e quindi iniziare ad avere un approccio comunque giocoso con le verdure io dico sempre alle mamme portate i bambini dal fruttivendolo e fate scegliere a loro la verdura che devono cucinare le verdure poi dovranno essere assaggiate tutte le settimane però con delle modalità diverse allora una volta le facciamo gratinate una volta le facciamo lesse insomma più le papille gustative vengono a contatto con la verdura tanto più noi saremo abituati alla verdura perché poi ci dobbiamo anche ricordare che la verdura è l'unico gruppo alimentare che ha una consistenza e un sapore diverso per ogni tipo di verdura la carne più o meno ha la stessa consistenza le verdure no la carota ha una consistenza diversa rispetto alla zucchina e quindi a volte soprattutto nei bambini noi abbiamo un blocco più visivo e organolettico rispetto al sapone vero e proprio e quindi quello che io cerco di passare alle mamme è di non fermarsi al primo no lavorarci un pochino sopra perché le verdure nel nostro caso sono fondamentali poi avanti con la diasponositiva ok quindi uno dei primi obiettivi che ci dobbiamo porre è quello di ridurre il peso corporeo nel ridurre il peso corporeo non si deve mai fare drasticamente questo vale per tutti nessuno dovrebbe mai perdere più di mezzo chilo in una settimana dovete considerare che un chilo di massa grassa sono 7000 chilo calorie quindi è impossibile che un paziente possa perdere più di 3500 chilo calorie in una settimana quindi la dieta deve essere quella che noi promuoviamo è sicuramente la dieta mediterranea perché la dieta mediterranea oltre che essere l'unica dieta promossa per il Paragonio UNESCO è anche l'unica dieta che riesce con i suoi cardini a prevenire la maggior parte delle malattie metaboliche voi considerate che anche l'ipercolesterolemia è dovuta a una cattiva alimentazione ma non perché il paziente mangia solo proteine animali e come si poteva pensare in passato perché il colesterolo contenuto negli alimenti incide sull'ipercolesterolemia solo per un 5% quindi quasi niente ma incide l'alimentazione in generale perché perché l'organismo predisposto generamente a produrre più colesterolo del normale che cosa fa dall'eccesso di carboidrati proteine e grassi andrà a produrre un eccesso di mevalonato che è il precursore del colesterolo quindi che cosa succede in nostro organismo quando noi andiamo a mangiare troppa pasta troppo pane o troppa carne o troppo pesce o troppi legumi andrà a produrre un eccesso di mevalonato e quindi se il paziente è predisposto all'ipercolesterolemia un eccesso di colesterolo è bene quindi mantenere la giusta quantità dei nutrienti e in una slide l'ho scritto che devo affavorare c'è più infatti delle calorie totale i carboidrati devono rappresentare il 50-60% mi raccomando però a tenere bassi i carboidrati semplici cioè gli zuccheri semplici i carboidrati devono essere per di più complessi quali sono gli zuccheri semplici sono i dolci le marmellate lo zucchero lo zucchero raffinato la frutta ecco poi farò un breve parentesi sulla frutta la frutta fa bene ma non possiamo eccedere con la frutta perché? perché la frutta sono zuccheri semplici e un eccesso di zuccheri semplici porta all'iperterricerenia tanto che spesso e volentieri i triniceri di altri noi li vediamo più a settembre rispetto al resto dell'anno proprio perché le persone mangiano più frutta del normale perché quella estiva si presta di più rispetto a quella invernale quindi la frutta va bene ma devono essere massimo 200 grammi al giorno in sostituzione dei carboidrati quindi io non posso mangiare la pasta e la frutta nello stesso pasto ok? dovremmo mangiare la pasta e la verdura nello stesso pasto i grassi devono essere più o meno devono rappresentare il 25-30% delle chilocalorie totali dobbiamo prediligere però i grassi cosiddetti buoni quindi l'olio extravergine d'oliva dobbiamo cercare di ridurre i grassi saturi proprio perché quelli si vanno a depositare lungo le arterie riducendone il calibro e quindi aumentando il rischio delle malattie cardiovascolari le proteine devono essere 0,8 grammi per peso corporeo quindi intorno al 12% delle chilocalorie totali attenzione agli alimenti che ormai troviamo nel supermercato che sono arricchiti di proteine questo perché perché a lungo andare ovviamente fa male fa male anche a tutta la funzionalità renale che è deputata a filtrare tutte le proteine ingerite le proteine devono essere alternate il più possibile perché? perché non troviamo nella carne tutti gli amminoacidi che servono al nostro organismo per funzionare adeguatamente e quindi è bene alternare la carne i pesci le uova i legumi i formaggi nella giusta maniera io dico che il metodo più semplice è quello di alternarli giorno per giorno e passo per pasto se a pranzo abbiamo mangiato pasta e lenticchie quindi legumi a cena mangeremo il pesce il giorno dopo la carne la sera le uova e via discorrendo in modo tale da avere un'alimentazione più variegata possibile la fibra devono essere all'incirca 25-30 grammi e ora io vi farò vedere come possiamo arrivare a questa quota di fibra al giorno in modo facile questo già ve l'ho detto vabbè questa è la classica piramide alimentare che è praticamente quello che vi ho appena spiegato cioè la pasta e il pane può essere mangiata abitualmente quindi tutti i giorni ma ovviamente deve essere alternata quindi se in un pasto abbiamo mangiato il carboidrato nell'altro lo andremo a ridurre perché? perché daremo più spazio ad altri macronutrienti come per esempio le proteine allora le fonti proteiche è quello che vi stavo dicendo prima è importantissimo nei 14 pasti settimanali alternarli quindi 4-5 volte a settimana i legumi ma attenzione i legumi non possono essere i prodotti prefatti a base di legumi quindi le polpetto e gli hamburger prefatti perché è come dire mangio il pesce quindi mangio i bastoncini di findus no il pesce deve essere il meno elaborato possibile i legumi devono essere il meno elaborati possibili ormai con le ricette che troviamo anche semplicemente in internet riusciamo a fare dei piatti a base di legumi anche gradevoli da un punto di vista organolattico però è importante non prendere quelli dell'industria perché ovviamente l'industria per aumentare la palabilità aumenta i grassi saturi all'interno e quindi poi sarebbe dannoso dall'altro punto di vista i formaggi preferibilmente una volta a settimana e anche le uova massimo due a settimana questo non per un discorso di ipercolesteroinia come molte persone pensano ma semplicemente perché se le uova andassimo a mangiarle più di una volta a settimana andremmo a ridurre l'introito invece di altri nutrienti ugualmente indispensabili il pesce sarebbe meglio quello dei mari freddi perché è più ricco di omega 3 e quindi gli omega 3 riescono a ridurre naturalmente l'assetto lipidico nel sangue e quindi il colesterolo cattivo come l'LDL questo anche ve l'ho detto allora sull'ultimo punto apro una parentesi allora va bene mangiare il pesce azzurro e la frutta secca però questo poi lascio ai gastroenterologi la sentenza rispetto alla frutta secca per i diverticoli le linee guida dicono ormai non so se sbaglio che si possono prendere anche i semi piuttosto che la frutta secca basta che ci sia una buona masticazione perché quello non è strettamente collegato alla diverticolite però io ai miei pazienti consiglio comunque di non prenderli poi dopo mi rifarò ai gastroenterologi che diranno loro la loro comunque l'importante è prendere il pesce azzurro e alternare appunto le fonti proteiche e prendere gli acidi grassi essenziali quindi l'olio extravergine d'oliva mi raccomando possibilmente sempre a crudo l'olio non cambia il suo potere ingrassante a secondo se sia crudo o cotto ma cambia la proprietà nutritiva dell'olio perché l'olio una volta cotto perde le sue proprietà nutritive quindi gli antiossidanti e la vitamina E quindi quello che io dico è che se nelle due pietanze nelle due portate che abbiamo davanti abbiamo non so le polpette dove l'olio è cotto a questo punto sarà meglio prendere una verdura dove l'olio sarà messo a crudo in modo da bilanciare e avere l'effetto comunque dell'olio ora i cereali sarebbe meglio prenderli sempre integrali quindi pasta pane riso prenderli integrali che cosa vuol dire non cambia il suo potere ingrassante ma cambia l'effetto che dà all'interno del nostro organismo perché i prodotti integrali sono più ricchi di fibra ergo rallentano lo svuotamento gastrico e aumentano il senso di sazietà questo fa sì anche che il pancreas dovrà produrre l'insulina in maniera più graduale questo è il circolo che vi dicevo prima se io produco meno insulina avrò meno fame quindi riuscirò a stare a dieta inteso come stile di vita meglio poi dobbiamo anche valutare che una dieta ricca di frutta e di verdura riduce i livelli di omocistina l'omocistina è un aminoacido che si è visto aumenta il rischio delle malattie cardiovascolari questo soprattutto per le verdure a foglia larga che sono ricche di acido folico ricordiamoci che l'iperomocistemia si cura infatti con un'aumentata assunzione di acido folico un capitolo importante ovviamente è l'attività fisica non intesa come l'ora che il paziente dovrebbe fare di palestra due volte a settimana ma come intesa come attività fisica giornaliera quindi cercare di aumentare le attività se dobbiamo andare in un posto cerchiamo di andare in quel posto a piedi se dobbiamo andare al terzo piano prendiamo le scale piuttosto l'ascensore anche questo io dico che deve essere un cambiamento graduale ma costante non si può dire a nessun paziente non solo ai pazienti con la signora di Williams e da domani cambia le tue abitudini si può dire da domani facciamo un piccolo cambiamento sulle tue abitudini raggiunto quell'obiettivo ce ne possiamo dare altri quello che io dico è che l'aspetto nutrizionale deve sempre tener conto dell'aspetto psicologico del paziente e quindi anche della sua realtà in quel momento e della sua routine allora questo è quello che vi dicevo prima l'omocistina quindi è bene tenerla sempre sotto controllo proprio perché si è visto che un iperomocistinemia è uno dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e un altro capitolo è l'ipertensione si è visto come un paziente nel momento in cui perde i primi 5 kg ha un risultato evidente sulla pressione arteriosa quindi molto spesso è vero che il cardiologo dà l'antipertensivo o dà il diuretico ma bisogna dire sempre al paziente che la prima strada è quella di perdere peso e fare attività fisica perché così potremmo avere un risultato a lungo termine per quanto riguarda quindi la dieta questo appunto la riduzione del peso migliora i valori repressori nei soggetti obesi e anche un altro capitolo importante è l'apporto di sodio non bisognerebbe mai aggiungere il sale alle confezioni tutti gli alimenti che noi mangiamo sono già ricchi di sale in quel caso dovremmo abituarci a usare le spezie quindi va bene usare la paprika il peperoncino il pepe attenzione soltanto quando c'è un'infiammazione da un punto di vista intestinale perché ovviamente le spezie aumentano il rischio di infiammazione e per quanto riguarda invece la dieta io ho scritto un facsimile di dieta fermo restando che questa dieta non può andare bene per tutti perché? perché una parte importante del lavoro di un nutrizionista è fare un'anamnesi sul paziente e quindi capire anche il percorso di vita di quel paziente quindi le sue abitudini alimentari i suoi contesti sociali perché la dieta non è soltanto alimentazione in sé per sé ma è anche convivialità e piacere di mangiare vediamo come nei pazienti con la simone di Williams è spesso il lato ansioso del loro carattere genera ovviamente un'inclinazione maggiore a disturbi del comportamento alimentare quindi attacchi compulsivi di fame è quelli che di quegli attacchi ne dobbiamo tenere conto dobbiamo tenere conto di quale momento della giornata quegli attacchi ci sono e quindi per quanto io ho scritto che nello spuntino dovrebbero mangiare un frutto di stagione al giorno i miei pazienti sanno che poi spesso e volentieri io non do come alternativa il frutto di stagione è probabile che dia il pane con la marmellata cioè alimenti più gratificanti perché? perché se io non tenessi conto del loro aspetto emotivo la dieta diventerebbe scarta staccia diventerebbe un foglio perfetto che però poi è inrealizzabile comunque la dieta dovrebbe prevedere a colazione due fette biscottate integrali con due cucchiai nei rasi di marmellata un piatto di pasta o di riso a pranzo con delle verdure o un secondo piatto l'importante sono le due porzioni di verdura al giorno e a cena invece un secondo a base di carne pesce uovo legumi una porzione di verdura condita a parte con un cucchiaio di olio e 80 grammi di pane integrale o un frutto di stagione quindi il pane sostituisce la frutta grazie non ci ha detto che finiva allora immagino che questa tematica mi riporti a fare tantissime domande io vi chiedo la cortesia perché il mio ruolo di moderatore è sempre brutto siamo con tanto ritardo adesso siccome andiamo a mangiare sarà il motivo per fare queste domande dalla collega io faccio un commento che ho capito che ho sbagliato tutto fino alla mia vita e si vede credo e quindi diciamo questa sessione l'avrei mai potuta moderare allora c'è una signorina che ci darà le indicazioni ci darà le indicazioni per andare a mensa era qui fino a due secondi fa ma in cui già spiegare e mi sono perso e ci vediamo manteniamo 13 e 30 ok allora vi chiedo adesso siccome c'è fuori ci daranno le indicazioni per la mensa per favore alle 13 e 30 dobbiamo riprendere e non so se in sala c'è la dottoressa corridore e putignani se ci stanno se si avvicinano un attimo grazie a dopo grazie grazie a tutti